Ciao Nico, andiamo a vedere Smile al cinema? Ma fa quello che vuole fare le 301 su Horizon? Andiamo a vedere? Smile 2 al cinema Ma che ti mammanco lo puoi vedere tu? Si che posso, cioè, non posso però posso Ciao Pandiz vecchia volpe Stavamo giusto parlando di te Però non mi ricordo cosa stavo dicendo Che tipo hai fatto Smile 2, eri un maniaco di quelli Vero Pandiz? Cosa stavo dicendo Pandiz? Ti stavo proprio nominando prima Però non mi ricordo No, non era relativo a Brawl Stars Non mi ricordo a cos'era relativo Eh non lo so Si che sei un grande Non avevo mai degli squat Si si, ho la mortal Si era tipo che sei un grande, una cosa così Come vanno i game Beh, è molto divertente Nuova modalità 2 di 4 Carina Eh Dai ora, compascio 7 kill Vabbè dai ragazzi Ma Edo, io punterei a farne 3 prima No, no, ne faccio 7 Ma punta a farne 3, 2 anche se vuoi No, ne faccio 7 Farebbero comunque comodo nel complesso della partita Faccio 7 Fatto leggenda su Brawl Stars No, ho trollato dei game apposta Per chi random erano rincuglioniti E quindi E quindi E poi ho livato perchè ero incazzato Ok No perchè se non ne fai 7 andiamo incazzato Quella roba è la mia preferita No, per cazzo E' sicuro allora di farne 7? Avoc pingato e lo raccoglie lui Madonna Non l'abbiamo mai detto questa cosa No, ho visto che l'ha pingato Lo stiamo dicendo adesso Ok Eh, chi è stato? Non è giusto Ma c'era gente? Perché hai aiutato qua? Il prossimo anello Eh? Vabbè ragazzi io zero la Troia Non ho un'arma Ma non Se lagghi Non è che mettendoti il microfono dentro la bocca Non lagghi più Capito? Sono a porto di munizioni energetiche No No Devo di da cazzo Io cane non hai un'arma Sprezzami un'arma Sprezzami un'arma Sprezzami un'arma Sì io devo pugnare Io devo tagli di punto Devo tagli di punto Devo tagli di punto Puoi tornare Niwa Per favore Pantizza anche Lo ricarico Lo ricarico Lo ricarico eliminato Vai nico alla ricerca del quarto Lo ricaricando gli scodi Ricarico gli scodi Un secondo Mi curo Attenzione C'è un'arma Attenzione Qui c'è un'apap Perfora scudi Nooo Ho il PK fatto full viola Non lo posso prendere Qui c'è un'apap Perfora scudi Non posso prendere il perfora Perchè ho il PK già equipaggiato E non lo posso prendere E perchè dovresti prenderlo? Ce l'ho già Perchè è viola Il colore viola Il colore viola Sono qua davanti ai draghi Io cerco hammer point Va bene Un certo gravino Pure qua a destra Avremo la ziplay in diretta Eh ma questi sono già arrivati qua Dai no sono lontani quelli Cioè stanno andando verso il fight anche loro Ma io lo farei pandits sinceramente Cioè mi diverto Io no Vai andiamo a arrancare noi tre col Col principale Torniamo tutti a divanti Tanto i premi li prendiamo lo stesso che ti frega Se ne stico uno 10 euro a Edo Questo è un bastardo Ah uno di vita raga uno di vita Zio cam ha pushato che avevo 20 E lui 175 stava perdendo Ciao Jimmy Ressi E poi mi confermeresti Revenance Madonna che cazzo stava prendendo 20 HP 20 HP contro 175 Zio cam Che sfiga Madonna pandits C'ho una sfortuna in sti giorni Ma hai visto 20 HP contro 175 E gli faccio 170 Figa hai visto C'ho una sfiga in sti giorni Guarda pandits Io ti giuro Davanti a me raga C'ho una sfortuna pandits Sì ho preso una kit di rombo di tuono e sta fatto Sì Lico c'ho una sfiga in sti giorni Me l'hanno fottuto A me li fottono tutti Che ti devo dire Ma pandits lo sa eh Pandits lo sa Pandits lo sa Cioè glielo ho fatto vedere Pandits lo sa che c'ho sfortuna in sti giorni Vecchie volte pandits Pandits fa tanto il furbacchione Fa l'ugnorri Ma lo sa bene la sfiga che c'ho in sti giorni eh Pandits Eheh Guarda ora push io li lascio lo guantcio Guarda Craccato la sopra Che fortuna Beh insomma Cioè avevo craccato anche il mirage qua Comunque ne sto prendendo veramente pochi Che sfortuna Ma va là dietro Finisce e se lo prende G-Shadow Nooo Dai Che sfortuna Ma che sfortuna gli hai fatto zero Lo devi colpire per ucciderlo Ah quella? La breccia? La live Ah quello allora chi ma la no Cioè non puoi dire che sfortuna se l'hai fatto zero Su via dai adesso Non esageriamo Ma l'hai fatto zero l'hai fatto Ma sfortuna dove? Un'asfiga Che gioco Ricarico gli studi Sto bene Non ho paura Cioè ragazzi che lo diremo adesso Viene FaZe Fabric Appella Eh ma ci pensa lui Da FaZe Fabric App Ma perchè deve fare il tossico con G? Ma perché deve fare il tossico con G? E' imparare giusto Tranquillo cappella Con i cecchini da lontana Ragazzi lo sentiamo in pieno viola No cavolo Ho imparato a giocare Sto giocatore cappella Ma io non c'ho batto dico No no ve io Non mi suopa le cure figa Vedi? Ma bello quel triple take Ma ti piacciono anche i cazzi? Che bello questo triple Me lo fai vedere ancora per favore? Ricarico gli studi Sto bene Niente paura Faccio l'altro team fuori da dietro Ho uno di vita Non avevo uno di vita Oh ragazzi incredibile Scriatemi un'altra Oh madonna ragazzi stiamo giocando nel chill Non piangete Oddio mamma mia Se danno i premi più alti perchè cazzo tengono delle processi Ragazzi io non ho ancora trovato un caricatore energetico E sono stronzo però vabbè Nel senso No sono stronzo Volevo controllare un caricatore a energy Però quello lì E' molto più stronzo E io apprezzo Edo però Non era segnata Bella GK Non era segnata Sono stato veramente stupido a lutare lì Ma speravo di trovare un caricatore Oh Ce ne infatti vedo Perché ne avevo zero ancora Oh Che sfiga Che sfiga che c'ho in sti giorni Puoi restare Puoi restare Sono lontanica Bravo cappella Go del rossero Alla fine E alla fine pandiz Chi è che l'ha preso in culo? Io vedi che sfortuna che ho ultimamente Ho usato a lutare lì Però d'altronde Come facevo senza caricatore? Tu lo sai bene no? Dove cazzo sono questo? Mannaggia Sì Eccolo In post Buscatevelo Vai X Eh vi vuovete a vinceldora ma ragazzo grazie gian prego bella la serata ti sto aspettando no perché prima con pandiz ha funzionato dirgli che lo stavo aspettando non lo so secondo me questo se dovesse scegliere tra sua mamma il triple take sceglierebbe il triple take ho questa sensazione quell'altro là boh stessa cosa godo madonna godo dove stanno con l'ultima hit dove stanno e hai fatto le sette kill no però me ne avete stilate 10.000 tipo quindi facciamo che si ma è 10.000 figa eh raga stilate 10.000 c'ha 4 kill con mille danni c'ha 4 kill con mille danni c'ha stilate 10.000 4 kill con mille danni attenzione c'ho 3 rs c'ho 3 rs c'ho 3 rs davvero capito ma che ti è stato stilato che c'è 4 kill con mille danni no no un portale di kill mi sono stato stilato ma 4 per 200 fa 800 cioè forse ci stava una kill in più no nico io ho fatto 2 kill con 60 danni e allora quindi ogni 60 danni che sono 2 kill mi avete stilato insieme io mi casillo ciao notellino ciao notellino è un bellissimo nome grazie ma anto è quasi diamante 2 ragazzi sono pronta ma anto è fortissimo eh si è prego nutellino non ci dica mi piace molto il tuo nutellino ti piace il nutellino? si si è affascinante il nutellino è un bel nome nutellino mi chiamo Q nutellino va bene è lontano e gishado lenda no è chill è chill io sono ultra chill ultra chill è che voglio trovare a gentle lunch il coniglio il bianconiglio no un coniglio è un coniglione un coniglione un coniglione ufff un coniglione ester non mi piace ufff che un nico tu ne hai visto un coniglione no eh sono molto belli ufff 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 AUF ufff 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 e guadagnare e è win ск ufff 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 Ok, grazie di un incontro a G-Blog. Ma chi? Ma? Eeeh G! Mi sono messo molto male. Tenere i boom dietro? No, erano due! Eh vabbè il full team. Ma sono altri due. Ah no, è un altro full team. Eh sì. Fosse stato uno, forse non lo sarebbe. Che cazzo? Ma no. Vabbè dai, 3 kill per esempio. Ma in teoria Newcastle era con lei, credo? No. Vabbè dai. 3 persone, questo si mette a fai killare a me due sonni. Le mie 3 final kills l'ho prese. Buono Edo, 32 danni. Let's go! Yahoo! Yahoo! Yippee! Yahoo! Oh ragazzi grandi, siamo morti allo start e avevo tre due anni. Oh! Siamo morti allo start? O tu sei morto allo start? Io e G mi sembra che fossimo riafaitari o no G? Sì perché sono andato a testa al parlo. Minta, Nico, quanta gente ci ha pushato! Siamo stati molto bravi, complimenti. Ehm, sì. Adesso parlo io. Wow! Ciao Pandit! Bella raga, come state? Vecchie Volpi, tutto bene? Ciao! Sì Pandit, tu? Sono qui per reclamare il mio posto fisso. Non siete contenti? Basta, l'ultimo game sono io ragi. No, 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 no! No, 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 no! Cioè, hai già capito chi doveva andare via? Boh, così. Cosa è successo? Mi sono perso, non lo sento purtroppo. Ah, non lo senti? Perché non lo senti? Eh, perché ho giocato a hotspot. Cioè, allora, è stato molto divertente Pandit. Praticamente ti hai detto, Hey bella ragazzi! Ciao! Come state vecchi Volpi? Sono venuto qui per riscattare il mio posto fisso. Eh, no, hai detto più o meno così, ok? Sì sì. E... E praticamente, Edo ha piccato Horizon e fa, Eh, basta, ultimo game, prendo Horizon. No, in realtà... Allora, facciamo così, Edo. E' il tuo ultimo game, giusto? Eh beh, sì, sono qua. Te ne farai qualcuno in più, per farlo in più. Uh... Ma ti devi lavare le palle. Attenzione, Edo, mi sa che hai un fan. Come leone, le tartarughe, oppure le fatti. Tenete l'uomo. In Vicar Strong Grey, tu vuole essere un amico. Ma Seba, vengo con te. Te le eletto direttamente. Il fan è J Salad. Mandate uno dei Team Fades via così. Eh... Sì, Seba. Seba, posso io? Va bene. Uno quello destra, uno quello destra. Uno quello destra. Seba, ti ho già detto. C'ho undici anni, non si possono dire queste cose. Ma... Ma... Ma no, neanche. Non ha l'età del consenso. C'è, boh, Seba, veramente. Ah, è vero. Eh, no. Non hai l'età per esprimere il tuo consenso, Giancarla. C'è lui. Siamo veramente. Stai guardando Smile. Deve chiedere il permesso dei genitori, Seba. Ah, ma io stavo guardando la prima, mi stavo... No, no, no. Beh, io la tip la salvo, eh. Secondo te posso mai dire che voglio... che voglio lavare le palle a un ragazzo con mio padre l'avanti? Non le usi nemmeno. Madonna, non le usi... Madonna, non le usi... Madonna, la c'è una! Ah, bravo, G! Grazie. Bravo, G! Se ne ne ho alcun 800 euro al primo che... Io... Mi hai seguito. E' one G! Bravo, G! No! 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 Cosa ne pensi di tipo, non lo so, Edo, che lagga, parla, glielo dici e al posto tipo di stare zitto si mette il microfono nel culo per farla... cioè urla. Cosa ne pensi? Tipo così? Molto divertente. Ehm... Comunque bravo, G. 100k. Seba, madonna, quanto ti... Quanto ti mancano le 100k, Seba? Eh, a me tipo 500. Ma... No, Nico! Si gioca fino alle 500. Pure a me Nico può che me mancano. Dai! Dai! Metti di fuoco! Metti di fuoco! Eh, sei io! No, mi ha lasciato il posto! Poi devi farmi salire! Vabbè, ma aspettiamo qua! No, 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 non fatti troppo lungo il ballon. Palle, 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 palle! C'è gente, ci c'è gente! Tss! No! Dove? No, no, ero un troll. No, no, ero un troll. Vai, mi sa che è troppo troppo troppo. E non prendo. Qua gente, qua gente! Ma vedi, coglione, non ero un troll. Ma, ma perché, coglione? C'è molto, non mi credevi. Palle! Palle! Bravo, Seba! Bravo, G! No, bravo, Nico! C'è un'altra parte! C'è un'altra parte! C'è un'altra parte! C'è un'altra parte! Vabbè! Vabbè, in un altro team da destra! Vabbè, ma questo è vivo! Noooo, veramente! Oh, se mi prendete la kill io sono felice! Vabbè, aspetta! Lo finisco, non mi interessa! Vabbè, mi devo andare, Pathfinder! Bravo, Pathfinder, pazzio! Hai un medica, G? Eh sì, te lo mollo se non finisci! Te lo vado io! Ci metta lui! Grazie, un po' Non so, c'è... Palle! No, vabbè ragazzi, troppo gente! Sì, sì, sì! Decisamente! Infatti... Molto brutta situazione! Eh, ma sono molto sfortunato ultimamente! Pusha, no? Ehm... Non lo so, penso sia vicino a Bust! Ma hai Lumber Points? O no? Sì! Eh, fatti mettere un po' di gameplay... Il record... Di Assist! Un po' di gameplay con l'Hummer Point, vediamo! Stanno rossando! Superglide missato! Che pippa! Bello! Sono due! No, credo da che l'ho alza! Vabbè, ma quello... Che minchia faceva! Vieni qua di Bustarda! Vabbè... Porco diaz! Questi che cazzo erano? C'è... No... No, no... Forse la life frame col giù... Uuuuh! Che culo! Che grande life frame di buono! It's Brian col triple take! Badge Master, stagione 12 e 17! Brian è interessante! Grazie G-Shadow per avermi craftato! E' G-Shadow, G-Shadow, attento! Per averti craftato! Che palle! Come quelle del vecchio in spiaggia oggi? Si! Ciao Pandits! Sai che G-Shadow oggi ha visto le palle di ben due signori? Ma... Ma... Vecchi? Si, si! Di due signori anziani! Vabbè... Ci sa! Fortunato! Vieni, vieni, vieni! Panditsu non aveva una volta abbronzata! Ti vengono in faccia! Ti vengono in faccia! G-Shadow, non credo che tu le aderissi così attentamente! Nooo! Credo che tu abbia visto tutto lo sguardo! Lo so! Nooo! G-Shadow! Nooo! G-Shadow! L'ho messa su tutto! Vabbè, bella partita G e Seba! Complimenti! E che cazzo c'hai da tossire? C'hai una kill anche tu eh! Eh, che... Ma perché pensi sempre che dico perché ho variato cose? C'è... Dico perché non ho fatto un cazzo! Mamma mia quanto flamma! Ma... 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 Ora per un pacchetto! Ma fanculo, ciao, ciao! Ma fanculo! No, me ne sto andando io, coglione! Vabbè, no, no, stai zitto! Non dirglielo che facciamo delle trio! Dov'è? Niente trio! Povero Fritz Cappello! Mi avete invitato? Eccolo qui! Certo! Ho accettato quello di G-Shadow! Ehi, vecchia volpe! Ma sono più figo qui eh! Guarda la mia skin galattica! Eh, guarda la mia, scusami! Ma tu non hai la skin galattica! Ciao Edo! Lasciami Horizon! Fatigio Seer! Devoto Seer! Fatigio Seer! Perchè Seer! Perchè io sono in Seer! Bravo! Grandito! Vai Edo! Se fai più di dieci pilli in questa partita ti regalo cinque euro! No, boglia! Eh, cinque mila euro! Oh, se non ne fai manco tre! Sveglia! No! Allora, se faccio più danni e kill i panzi mi faccio un bucone! Un? Tu dici Sigi! Un? No, 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 ho capito! Bucone! E che cosa sarebbe? Un bucone! Un bucone! Ciao G Shadow! Perché metti like a tutti i post di Anna Pepe? Ciao Nico! È una bella ragazza! Ma Anna Pepe è quella che... Ma metti like a proprio tutti sui post! Ma ne ho messo tipo tre! Ma tu li metti a tutti! Ma è tipo quella che fa... Porce... Non è vecchia volta! Tipo... nella canzone dice tipo... Nel mio back! Sì! Ah! Proprio lei! Gli occhi come il mare Cerco che ti fa fare Le mentalità da perdente che hai Edo, neanche il giocomazzo Deci a fare Ma non margarita Il figo della vita Però non c'è nessuno qua, vero? Vado a godermi la vita Ciao Che lente di merda Ma giardini è pieno Perché non stiamo andando a giardini Ma io non capisco Sto land, è tutto in ritardo Eh ma perché voglio fare più danni a kill Di quel coglionero Cioè tra l'altro sono le sue esche Ma chi ha detto che c'è gente Ti ho detto c'è gente qua Tra l'altro sono le sue esche Cioè bambusolate dalle sue esche Cioè unreal questa cosa Bambusolata Unreal? Ma come parli? Sì come quello di Fortnite Venire bambusolato dalle tue stesse esche È unreal Ma come parli? Come parli? Come parli? Ciao Nico ti piace il guacamole? Il guacamole Volevo dire Il guacamelo? Sì Buono il guacamelo Il guacamole? Buono tipo sulle tortillas Nooo No Oh raga mi sta passando sire Bella questa G Perché non esplodi dopo o mai? Beh L'hai capito? Se vuoi te la spiego No Potresti spiegarmelo? Eh detto di no Eh non lo capisco Noo su All buis Beh lift G Ciao Nico Tieni Dai però eh No E il bandit ha annoccato Luke 43-16 Eh Cazzo Sono tutti a 3 lì Il persegno è proprio di fronte a me Ahia Non credo che è giù Aspetta Dico Non ti riempore St'alessando Eh guardati il mirage Ho 147 bianco C'ho una sfortuna in sti giorni Guarda St'alessando Ma io ti giuro St'alessando No 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 St'alessando C'ho più curati Curati Io ti giuro Panditz Che c'ho una sfiga in sti giorni Zio St'alessando 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 Bravi Primo G Dio Panditz C'ho una sfortuna in sti giorni 147 bianco Ce ne sono altri 8 missioni Mi devi fare nechillare E' brutto Poglionito Io Oh Oh No Arrettato tutti Ciao Ciao Dove sono Ciao ragazzi Mi devo curare Bravo vecchia volpe Qualcuno qua non fa più danni a kill di me Mi sa eh Dovebbe essere vivo per farlo eh Ma perché c'è una sfida in corso? Eh si eh Devo fare un mucolo a Edo Per far più pilli da me Oh 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 Parla di true Non so Tonico se non dimenti Viola sei etero Mi manca mille alla Viola Echia volpe Minchia Mille un po' tantino però eh Che tossico Eh ho 0 kill Eh ma lo so Ma è colpa di Edo infatti Che fa le 5 squad? Ma c'è tanto che cazzo ti frega delle cinque scelta e la sua parte tutta la pesa sono state tutte le state quelli di g Non ho capito potrei solo che la life in stronti abbastardene dovuti restare era tipo mio a quella lifeline Ha detto di incredibile Incredibile Ho detto per amico e brava nico No vabbè chissi Sei vergognoso Dici? No, non dico Lo faccio Secondo voi lo prendo o non lo prendo? Già nico facciamo quel trick Ah ma non hai octane, vabbè lo facciamo comunque Il trick della jump ad la mia Chia la blu etero Giagi potresti mettere il tuo potente balloon Eeeh Quale dei due? Ma non serve Ma perchè passi di lì G se è Cioè non ha senso fare il giro l'alcomo Ma sto venendo con te Ma se non è vero Ma c'ho da smontare Ma G shadow è autistico Ma pandis A proposito di autismo sto riguardando la serie atypical Veramente una bella serie Bella No vabbè lì con my god Gioca da pex legends part 141 Oh Ah 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 Ma lui è orfano io no Ah 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 Bravo pandi Grazie 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 No chi è il tossico è ovviamente Si ma ragazzi ma io stavo facendo la mia quadrupla in cil e me la deve rovinare Cioè ma si può? No vabbè ma assurda No dai Ho lasciato due battere e si risarvano amici miei Amplifico gli ultimi Tranne G shadow Lei non è mio amico È stato divertente per un attimo Quelli vi ribattere dicendo qualcosa ma non si può dire Aspetta G che mi sta Non te lo posso dire Aspetta Nico e mi sto grattando la palla a sinistra Eh ma lui oggi ne ha viste tante Ok Oh oh One shot Con il fuoco Ricarico Sono armatura blu Nico Puccio Che cazzo pensa che è? Io sono raid invece Però guardalo minchia Ma io non eri tipo blu Eh ma ragazzi sparando vi evolvete eh Dai là sotto Io prendo il TP Sei mo io sono gay Sì Se mo io sono gay Io sono gay Ma ragazzi ma perché non si muore ed 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 è ancora blu? ahahah chi ha fatto l'ultimo? però io, se no l'insulta la madre no ma perchè volevo sapere se l'avessi fatto edo che pss... eh no, punto o io lui e io l'ho fatto 90 flash no, lui l'ho fatto edo perchè non ero rosso come noi? ragazzi lo dico io lo dite voi? oa ua 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 cos'è lo dicevo? io ho 10 metti fatti ero da so e ero morto lo dico io lo dite voi chi lo dice ragazzi? dai pandits lo dico io lo dice pandits lo dice nico lo dice pandits guardate ragazzi siamo tutti in scala 5 kill 6 kill 5 6 7 1 dai nico dillo tu no 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 comunque madonna ho fatto una rimonta assurda allo start io avevo 0 kill e 100 danni e ho finito con più kill di te eh si ho finito con più kill di te allo start ne avevi tu 4 e io 0 eh si no perchè sono in lobby eh l'ho fatto anche c'è sono tornato io per sbaglio ho fatto una bellissima rimonta di kill mi è molto piaciuta dici? eh boh mi sa di sì no forse no forse mi sbaglio dici mi voi vedete come sopra oh ok la posso cambio skin metto quella con le banane come si chiama? eh banana dici? eccola ah no sono lune vabbè dai sapete? no non è vero boh lo puoi dire non ti picchiamo no 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 non posso cosa succede? giuro no non posso non posso no no uno spoiler della present season no ne vuoi uno? si che tu sei gay ah tu hai già provato la season Nico? no ma Nico ma nel futuro uscirà una una leggenda gay? perchè la main o se? ce ne sono già c'è c'è Gibraltar main a Gibraltar no no non mi piace molto non per il motivo che c'è di altro? sir? beh sir è pan sessuale tipo pan sessuale esatto che cos'è? che cos'è? non è più una persona che cos'è? che cosa vuol dire pan sessuale Nico? G shadow un po' mofobo comunque che cos'è il pan sesso? G shadow che cos'è il pan sesso? che è un pan sessuale che cosa vuol dire? che ti piace il pan? ragazzi sono pan sessuale G vede il tuo padre e dili che sia pan sessuale e se ti chiede perché gli dici perché mi piace il pan che tipo di pan? eh le baguette G ma quelle quelle col pan di segale che quindi è un po' più scuro o quelle normali? ah non lo so a me piace il pane nero tantissimo eh ci sa con gusti almeno perché no? meglio odas madonna Nico sono quelli di prima Giulia e Elia godo ma non lo so Anto cioè tu non puoi entrare nel nostro che palle e si Alex te lo dà lo stesso allora Anto mi ha scritto in privato se faccio un party potete entrarci tutti perché mi sento molto solo vai no ma poveretto ma tu devi fare le notifiche secondo me se ha le notifiche disattivate è un coglione non fare dalla PSA vedi dalla play ma tra l'altro gliele ho disattivate io le notifiche ma non c'entra le notifiche grande Nico scoperto no è vero no gliele ho disattivate io le notifiche però non c'entrano perché anch'io ce le ho disattivate ma gli in di che parte li vedo anch'io è l'unica cosa che si vede anche quando otteniamo un messaggio in realtà però le notifiche gliele ho disattivate io perché mi rompeva i coglioni il suo amico Mario Pro 2009 che spammava in viti bello a balletta dovevi capire basta gioco il massif decido ufficiale? si 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 basta mi hai proprio confermato che lo giochi? mi ha stompato mamma mia che pisellona gli hai dato ma è sotto Pandis mi sa no era un prank ho trollato ma dove sono? dentro qua morti bel fight sono il lobby? si ragazzi bel fight cioè avete fatto il fight bravo ecco lo capiamo c'è ascolto no basta scusa ok bello questo posto mi piace perché prima ci ho fatto un sacco di kills quindi ci tornerei volentieri cioè io sei veramente messo octane per busciare per cercare di rubare più kills ma chiedate che voglio busciare vedo ma tu sei un bad boy mette le jump ad e non le colla caspita Nico ma quanto corri veloce? sei un corridora si una corridora un corridoio? una corritroia no è una è una corritroia io urlo a combi scorri troia e lei corre che non è che dici Nico? e lei corre ma sei un pazzo? ma hai fatto la doppia? nooo nooo oh nooo argh lo volevo killare io infatti le BR è normalissima argh argh ciao Nico dove stiamo andando? ciao beh ma perché già 5 squadra? che palle andiamo in ranked ma perché le quad sono molto veloci le trio sono assai meglio ma non è vero anche prima ti ricordi che no ma le trio sono meglio quindi si fa di più top 5 allo start ti ricordi? eravamo in trio noi eravamo in quad eh no in trio in trio più veloce più veloce più veloce io te e mio che bel trio che è quello mamma veramente una bella squadra la squadra dei più forti l'inganno si ottiene tutto ah cavoli siamo andati qua Nico? sapevo mi avresti portato dove volevo io vado da qua però caccata l'hycain quello là c'ho a g7 scout i triple take e e mi ha scopato digi set grazie albi per la resub cioè il fatto è che mi ha scoppiato proprio digi set da vicino? non proprio beh ma comunque sono stato molto sfortunato eh cioè comunque come sempre ho craccato entrambi abbastanza sfortunato eh è vero però vabbè ma in sti giorni ormai è così c'è un altro team ma in sti giorni è così che ci devi fare? no è un'altra squadra no è un'altra squadra ti shieldo io panditz nooo che è un'altra squadra guarda che c'è un'altra squadra guarda che c'è un'altra squadra che padre con il cazzo di cettino eh io son morto ne ho attosso nooo mamma mia panditz che sfortuna io ti giuro oh cioè è veramente sfortunato oggi ma G shagli perdi G non ti hanno visto G non ti hanno visto no G ma no wey ma G ma cosa fai? male male Giancarlo eh panditz eh guarda che qua G t'ho visto male male minchia 100 la mozza mi c'è 101 c'è questo gli piace? beh immagino gli piaccia se l'ha fatta la 101 dici? panditz è letteralmente mantoi se non mi seguono a me non è arrivata la notifica a me si ma la vedo cioè hai parti baggati non puoi entrare in quelli di Anto G Anto si anche io no ero che la vedo però non mi è arrivata Anto sei poco baggato cioè non mi è arrivata la notifica però c'è il party cioè Anto sei poco baggato dai ragazze andiamo da Anto che si sente solo no panditz come si chiama una tv senza lo schermo tuo padre giusto bravo no ho vinto si lo sapevo ma l'avevi già sentita no no come hai fatto? guarda proprio a caso non lo so fortuna dici? eh perché Nico è molto sfortunato ma io sono molto fortunato madonna io ti giuro c'ho una sfortuna in 6 giorni zio cane anche adesso io ti sono samurai mio fratello craccati 2 180 viola all'altro una sfortuna zio ca che sfiga che hai ti giuro ma vogliamole andare? chiedo che svegli madonna cioè aspettiamo un altro posto punto ma scendiamo qua subito tutti oh mio dio ragazzi mi stavo grattando la tetta come mai mi trovo in mezzo a tanta gente ti stavi grattando la tetta oh Nico la tetta e la tetta invece? no la foto tetta no no la foto tetta amplifico gli scuti ha aterrato un altro fanculo è one ma doveva? oh lui è sceso come sempre da solo capito? no sono caduto sotto perché mi avete fatto l'indare male che caccia vuol dire? mi ha dato tanto tempo per cadere scusate chiedo come si fa a far l'indare male? che cosa vuol dire? perché siete l'indati avete siete sbattuti sulla struttura per cadere prima e però a me io c'avevo la parte superiore quindi sono caduto come una pigna pigna ma le pigne mica comunque cadono tutto l'anno ho fatto una facciata all'albergo quindi eri come una pigna in autunno sì cioè perché come una pigna e basta bravo John Carla grazie Nico no ma che cazzo grande Fandy però hanno live stanno già restando tutti e hanno già rianimato no eeeh io faccio il giro quali idea che idea ma quali idea eeeh ciao ribo si ah minchiamo cazzo dove sono da chiedere ragazzi c'è altra gente dietro ne ho nokat 1 di questi qua davanti ne ho nokat 1 nokat 2 di questi qua davanti crack lifeline anche me li resta entrambi quanto non ho flash G no ti prego G manca solo uno appena arrestato uno appena arrestato 20 di vita non si è fullato ok c'ho una sfiga in sti giorni zio k me ne è stato arrestato un altro vedi ti giuro che sfortuna ma ti rendi conto ma ti cioè non so sono pazzo io io ne ho nokat 1 davanti si pazzo per gesù non lo so cioè sono pazzo io mi sembra di no aspetta ma nessuno è andato a recuperare Edo avevi un po' di serinche nico eh si cioè noi altri se ti servono poi no 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 anzi guarda te ne do una no me ne hanno arrestato ragazzi minchia grande G peccato eh a te uno ne hanno arrestato a me sapessi ma dove sono? sul ponte no no sei veramente mi hanno bambusolato sotto il ponte allora io devo craftare i colpi qualcuno di voi crafta Edo perché io no ma sta arrestando ma dovete fightare o? eee da me ne stanno due giù bravo panni destra muro pavimento 360 da lavoro si bravi ciao nico un regalo per te mmm cos'è? tieni ehm no grazie ma co come? eh ma ce l'ho già lavo che col caricatore viola dov'è che sei morto Edo? e quello non posso mettere il turbocompressore quindi preferisco il mio no non c'è questo dove è Edo? qualcuno viene a craftare Edo che io vi giuro devo craftare i colpi potete venire per favore che io ho zero colpi per due armi vai panni vizio stare spawn oh non è l'abbia ma non c'ho voglia come è andata di lui? tanto li stiamo facendo tutti no vai per favore a me se lo abbatte però c'è gente da me? c'è gente eeeh sono un po' lontanino tranquillo va bene sto salendo sopra Ioni mi sto facendo male vai il pieno di amici arriva l'isbroglione ricarico gli scudi un secondo neutralizzatori attivati si parano da lontano con l'est era brutto però dove sono questi uomini pedologi ragazzi? un nemico infratumi un nemico infratumi traccato G porcaccio il Cristiano Ronaldo sopra ah è 60 flash 60 60 ciao Jimmy resti che gentile grazie e da quando mi piace il turbo no infatti non mi piace però voglio avere la possibilità di metterlo c'è boh nico leggi il messaggio di seba eh sei contento no? mamma mia palle 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 cosa ha scritto? e poi eeeh palle 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 e seba ha detto che sta tornando con le palle belle pulite e profumate e ci ha detto mamma mia lo aspettavo da tutti i giorni no pandy ci aspettami no pandy ci aspettami no pandy ci guarda che le kill non si fanno da sole però eh hai ragione adesso andiamo no a terminale io andrei che arrivano quelli di laboratori dai vecchiavolpe andiamo a killare tutti dai ragazzi dai su veloce veloce grande seba mi sa che non ti hanno insegnato il plurale a scuola singolare plurale cioè immagina che cattivi come guidare palle 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 guarda che pandy è quello col foglio rosa non ancora in realtà non l'ho ancora ritirato madonna spero che ti scada dio caro non spero di no non credo quando hanno risponato davanti a me dai nico c'è il wallhack palese dai solamente stai proprio andando lì e beh certo nico afferma di avere il wallhack live diretto certo il 27 luglio giuro ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho il wallhack si si ho capito ce l'ho ho detto che ce l'ho figa ma nico ma ce l'hai dai go c'è nico ulalà cosa vuol dire lala ulalà hihihi u louloulouloulou u hu ma ragazzi ma perché dove prendi i danni nella safe dove cazzo è ma ragazzi Fategli fare la sua partita Lui sta cellando di là Qua dietro ragazze Sì ma io a questo punto li aspetterei qui Boh io li puccio insomma al mio amico Gishado Va bene Hai detto che non eravamo amici Panditz Eh prima Ma adesso sì Ma mi sembra una mossa stupida da parte vostra Perché tanto entrano di qua Madonna se prendete le palle io godo Forza andiamo a face E anche io Fightano davanti a noi ragazzi Cioè avete fatto proprio una mossa di merda Posso giudicare in termini oggettivi il vostro gameplay Nulla di personale Proprio una mossa di merda Qui Panditz Va a destra G Eh mi devo curare Minchia ho fatto 195 viola No G mi sono incastrato Ciao Panditz Non ci c'è uno Bravo G Ma ti puoi entrare in safe G? Sì Qua dentro c'è un team se ci aiutate adesso Arriviamo E gli dobbiamo far esplodere la mamma per favore Ciao Edo Eeeh Che bello Che bello Bravissimo G lei è davvero 870 G lei è proprio devastato Hai visto Panditz Più veloce Più veloce Più veloce Un piccolo messaggio per le leggende nemiche Hai battere in frugge shadow? Io non so Unico my god Sì Panditz Te ne lascio due Eh però non lia Ciao Mima Ah no Gribbo io l'ho detto Faccio full pub stomp Ti becco tutti Mi frega una sega Beh proprio sono molto divertenti Se si pusciano un pannio No no ti becco Minchia Ti becco tutti Tutta stagione prossima Mi devo preparare Perché mi sono rotto il cazzo delle rank Dei 12 men Quindi gioco le pub E ti becco tutti Ragazzi avete dei colpi energy? C'è Ciao Nico io non li uso Ne avete un po' da lasciarmi? Sì Io no Eh vieni qua Nico ma ci sei pure passato sopra Eh non li ho visti Ragazzi c'è dietro Ragazzi c'è dietro Ho fatto un bel po' di danni anch'io Ricarico 200 alla Eh ribbo Stai tranquillo Che appena appena fixano il gioco Io la smetto di fare il tossico Lo faccio fino a che non sistemano le cose Se la situazione non cambia One Let's go Troppo facile ragazzi Nel chill Ma dai Ma sto nel chill Ma dai Ma dai Ma c'è lo star Ma sono chill Ma sono chill Però ma che uso il tratto Non tiArghe sei ser ref Buone le palle Fuse C'è il nuovo Quanti che l'hai Mi fan di Non lo so Ragazzi mi sa che abbiamo fatto le 10 10 10 No io mi sa che non ne avevo 10 Sì le avevi le avevi Mi sa che abbiamo fatto le 10 10 10 Ti giuro l'abbiamo fatte Ti giuro guarda Che partitona 10 10 10 10 10 11 Ragazzi c'è un intro sin questa Minchia sarebbe da vedere se le dà Solo che non possiamo saperla Bella partita ragazzi Mi siete fatti 5 team Mentre ero morto Lo dico io Lo dico io Lo dico noi E chi lo dice 5 team mentre ero morto Lo dico io Lo dico voi E dillo tu Forza E lo dico io Lo dico voi Dillo tu ti spacco il cranio Dillo basta Dillo Dillo vai L'ha detto 33 kg di squadra 31 kg in 3 No perché sei andato vedo E' scomparuta Dai ragazzi molto divertente sta partita posso dire Mi è piaciuto Ragazzi ma Zantro dov'è Zantro Complimenti Dove sei con le palle profumate Zantro Ma dobbiamo entrare tanto Paddi Sclippi Che cosa scusa non ho sentito E Gisciato ha detto Zantro dove sei con le palle belle profumate Ah ma no Mi ha avuto già delle belle clip Di Gisciato Non è vero Nico non ce li hanno Quelle che parla in giappone Con un otaku di merda Bellissimo Si è vero otaku di merda E scherzo non stacco più le 100k Figa me ne mancano 152 ancora pandiz Vediamo quanti Ma madonna ma 150 Eh ne ho fatte 100 per ora Più di ora Me ne mancano No no ne ho fatte 110 tipo Me ne mancano 6 Ribo se vuoi ti mando video Di come lo faccio con l'alluce Vuoi video? Cioè Di come lo faccio con l'alluce Sì il controllo dell'arma Sì Vuoi video Nico? No Sicuro? Sì Ce l'ho ancora sporco di sabbile Lo vuoi? No Sicuro? Sicurissimo grazie Me ne mancano 6 Non posso chiamare più delle 6 Perché è molto bello Ah ok Posso vedere Te Whatsapp Arrivo Ma dai Ma dai Ma sono il cile Minchia Se va Tranquillo Se va a diventare un demone Un demone Un demone delle palle Mi chiamerete Dragon Ball Bella questa Bel gioco di parole Demon Ball al massimo Cioè No No Bulls Demon Ed ormai ballistica Vabbè Vabbè Ma dai Ma sono il cile Che bella partita La miglior partita Che abbia mai fatto Nelle quad Ragazzi Posso dire Chi balle è gay Cavolo Posso dirlo La miglior partita Che abbia mai fatto Nelle quad Forse no 10 Oh ma quante zone calde ci sono Un botto Due Oh non seguitemi Non importa Basta che vinciamo Uè è bella pupa Cioè Oddio scusami Miwa Le migliori partite La miglior partita Nelle quad Tranne quelle In cui c'eri tu Ovviamente Tutte quelle che c'era lei Ovviamente Tutte tutte Vabbè Ma era scusato Ma lei lo sa Ma lei lo sa Ragazzi C'è tutto inteso Dai C'è neanche bisogno di chiudere Ma lei Lo sa Non serve Specificarla C'è unico Ma ti piace La farfallina O in più Di là Da me Sono in due Ma 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 Sono tanti La mamma di questo Eh Che Che dire C'è C'è Di sicuro Non è Una Brava Ragazza Noi Noi Vado Eh sì Vado Sì Vado G C'è 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 Nooo Lo deco io Oh G C'è C'è Bello il movement Però devi anche colpire con l'arma Bello il movement E vincì un tronco Paracaibo Non ho fatto neanche lo swing con l'Horizon Nico Male male Eh Va bene Dai G c'è trovato G Mi mancano 4 kill ragazzi 4 kill O più assist Che tossico ragazzi Vi giuro Non giocate mai Ad Apex Con Pauliz Ok C'è Boh Ho avuto quella promozione Ma un potenziamento sarà ancora meglio Perché non ci trova la partita? Eh Ma che cazzo fa questo? Si arrampica sul muro gigante A me ho deciso a livello 122 Secondo me è uno smarth Cioè Perché va veramente del bel movement Beh Sarà un prodigio Bell movement Miwa quando li facciamo Una bella squad al femminile Ciao Miwa Come sta? Quindi io partecipo Nico? Eh no No Io Nico Marika E Miwa Esatto Bello Pandit Ma sei una femminuccia? Una femminetta C'è una femminuccia? Eh sì È l'ora di mostrare a questi bilettanti viziati Chi sono Siamo tutti Pandit Avanti tutta Cosa c'è? T'ho già risposto il mio amico Tutto coglione Ok Va bene Più o meno Magishaddo davvero hai giocato a Genshin con Miwa? Sì una volta Ma e a che punto sei arrivata? Ah Sì è risistente Nico ma io mi ricordo Ero arrivato alle missioni Con le dove sbloccavo i personaggi Che grande Tutto il gioco Sì sì se non volete mangiare le macchie Eeeh Va bene Non sono sicuro Marika vorrebbe No problema Pandit Facciamo Io, Temiwa E Karis Va bene? Sì Ok Chi era? Una ragazza Nuovo team femminile Vabbè Mi dice ero arrivato E niente ha detto che tu non vuoi giocare con noi Marika Quindi basta Ma Sì vabbè Ne ho cassa Veramente tossica Io ne avevo noccato un e crackato un altro ragazzi Ma già le stesse Ne ho fatti due io Ha detto che non vorresti giocare con me i pandits Che? Quindi Quindi Marika Marika sono una grandissima troia Ragazzi ne ho fatti tre Bravo G Uff Tata attenzia al team da Newcastle Ne ho un clippato uno Di tutti i sensi Di tutti i sensi Finchia Ah ne mancava uno E non lo sapevo No aspetta, 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 aspetta madonna perché cosa? As-GaZiiiiiiiiii Ah non ho presi plus! Seямee No 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 no, grazie mille Sempre a fare il tossico Non lo so, c'è vabbè, rompi l-Iò ok, grazie Minchè ti ho gestificato con mille danni Non ho tanto solo per te 1.000 danni, davvero? Si E quanti kills? Quattro boyah? Eh nnn mamma Ne ho fatto tre in un angolo Ma l'hai setta bene quindi? Sì, sì, corre in page, mico, incredibile. Provaci. Quelli che ti ha dato l'igo, però, se no non funziona. Che non ha l'armatura bianca, è però. Va bene, raggio. Eeeh, feggio cappello. Eeeh, mi dovresti dare una cosa. Ciao, piccona, tutto bene. Piccona. Che strano soprannome erotico, nel senso, vabbè. Niko, sono DeepRowler, Euron199. Ciao, Marika, come procede la tua vacanza? Anche se non è la vacanza, come procede la tua vacanza? Marika, non è la vacanza. Lo so. Come procede la tua vacanza? Mi schiavi tu. Oh! Granata termita è lanciata. Y, un apologetic. Bravo, Pandit, sei imparato a leggere. Oh, c'è la mozzarviola qua. Eeeh, tocca a minare. One shot lightning. Vai ed off. Che palle, ragazzi. Sì. Uno di evitata è questo, Pandit. 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 Mi hanno colpito. No, ci è provato un grandissimo pezzo di nardappassardo. Mmm, trollato. Ma l'hai presa tu la kill? No, non è vero. L'ho presa Edo allora. Non ho preso kill. Ma donna, che bello che è ballistic comunque. Grazie, grazie. Ma fanno anche avversari forti. Guarda, mi suopo in automatico. Non so se è il drift del FAD. Please, stay. I want you a new jewel, God. Go, stay. Dai. I want you a new jewel. Ho messo up I saw you here. I saw you there. And two. And one. Che tossico Cioè ti ricordi il game di prima Che abbiamo fatto le 10 10 10 Ah ma tanto lui non potrebbe salire Noi anche quelli Cioè è proprio impossibile Bandi ti prego il muro Eh giù c'è la donna ancora Foglio rosa purtroppo Sono qua sono qua sono qua Metti lift andiamo top G sto lift No Nico io non sto lift Dica mettiti una config sul Kronos anche per buttare l'abilità 10 Ah si Che lo fai Nico Mi ha dato il pisello invece Cioè non l'ho neanche craccato Mi ha dato veramente il pisellone Che bello resoro Niente ragazzi questo affende il pisellone Edo ma Qui Scondi Il pat l'ho noccato Oh god No leva 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 Che tossico Che tossico A chi taglia i coglioni per tipo A pannizzo Come vai? Ok Dai Edo abbiamo partito in cui riesci a fare più kill e danni di me secondo Perché ho mille colpi di alternator Ah no ok Io sono un cicomalo Che forti che è il car Livello il car Il car Sì Ti piace Cioè non c'è nessuno a parte il tuo Nico Non lo so Al 70 Eh non lo ho Sì Secondo me sono andata l'altra parte Volemo andare lì Esatto Boia caro al 70 Ho prima la presa skin amico Eh quella bella Tu l'hai presa Col bandeau Sì È molto bella questa skin Lo usi in merino? Ho l'uno per tondo Io ho quello quadrato Mocca a mano ti si chiama Io ho quello che è ancora L'avete capito? No bandeau Ti me la spieghi Eh no No va bene Sono qua Oh cazzo Aspetta che così pensano che Ricarico New testo Quella genna di merda E 18 con un caricatore Tra quelli Un altro 18 Uno è blu Ciao Davidotti Uno divito New testo Eh ci pusherò Ci pusherò Altro Dici 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 altro Uno Un voto Che granata Un voto Che granata Lei uvao A uno Che palle Ma dove sta? Davanti davanti E dopo 3 di coppia Eh, come dico prima c'era Fatti due Ma si, ma si Anche l'altro, anche l'altro Bravo Nico Nico, te lo prendi, te lo prendi Appugne, appugne Eh, volevo farlo appugne Vabbè stato epico Minchia, hai visto che bella kill Eh no, volevo fare la kill al volo E come l'hai fatto? Che tossico, Edo Eh no, non l'ha fatta Edo alla fine No, cazzo Ho trovato il contatore Hai fatto troppe kill? Sì Vabbè, faccia 2.222 Perché, a quanto sei ora? Eh, 2.222 Cioè, Edo ti sei veramente fatto Superare di donne Allora Lo diciamo insieme Ti ho fatto veramente superare di donne 26 kg in 4 Ah, perché quittate? Non lo so Eh, dobbiamo invitare Seba Ti ricordo Bandit No, te lo devo invitare io Dovete Milo Milo C'è Milo online, ragazzi Non ho ancora capito Ah, sta giocando Le trio, si sta allenando Quella Oddio, già un troppo ammasso Grande Milo In chiamine, avete buttato un invito a ciascuno? Io non ho D'altro qua Quale è accettato? 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 Ma io non t'ho invitato o sì? Ragazzi, banner di inviti accettati Ho tenuto tutto per te Per dedicarti in game Ho tenuto tutto per te Eh, cosa ripensi di questo game dedicato? Io? Eh, sì, te l'ha dedicato Ma... 8 kill con ballistiche 8 kill mille donne Nico, di 2 kill ho trollato Ma quante ne volevi fare? 2.121 Ma... Ma fa cagare Ma infatti 21.21 Nico Nico, metti pronto Ma è perché 21.21 e non 23.23? Perché no? Perché 22.22 Basta, basta Basta Non lo sa anche lui E perché non 20.20? Perché proprio 21.21? Eh, è troppo tardi Non posso tornare indietro Ma perché proprio 21.21? Voglio capire Nico! 21.21! Ma fai 2.22.22 Eh, eh, sì, faccio Sì 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 Quante ne hai adesso? 223 Minchia, ci arrivi a fare 22-22-22 Eh sì, lo sa ma volevo fare 2-22-21 1-1-1-2-1-2-21 oppure fai 10 miro beh beh farla che c'è la gente quando è che giochiamo di nuovo insieme vandizzo non ti manca chillare con miua si va bene da solo perché mi ha migliorato con il sale nei cappelli un kawaii e abbiamo le skin abbinate anche io gshot abbiamo le skin abbinate ma prendi la skin abbinata a quella di mirage se 18 euro me li dai tu sei da tuo padre come tutti gli altri soldi che ha speso questo gioco di merda è questo altro gioco ha detto no sei un viziatino non tutta una viziatina ciao anton dimmi pure cara che bello è una torta senza miua sarà molto buona questa torta che stai cucinando che torta è miua la torta di mele è una delle mie preferite ma scusa miua non fece già una torta venuta malissimo non ci credo possibile 130 bianco mi sto attaccando la sedia nico come una torta con farina di castagni cacao la mia preferita assurda il flat la ne ha trovato che culo di merda vabbè 147 bianco che sfortuna che abbiamo questo si chiama vabbè ma posso chiedere perché tutto il mio team è morto dai aveva 4 di vita ragazzi ma sei dovuto andare a fare il calco se va dai aveva costruito dai aveva costruito ma sei di fatto 112 se va dai dai no non ti devono dire bugie io ho 447 e brallo e sono sotto non prendetela con me ma prendetela con lei dove sei? non so guardalo te lo fai te lo fai ci hai messo un pochetto a vederlo a sinistra ti arriva gente toliti sto birino di Maralta in cosa Maralta è buonissima in cosa era un panso si che sfiga che sfortuna che ho in sti giorni zioca si madonna che sfortuna bravo te hai vinto tu la gara diki direi che sono quello che l'ha lasciato più one shot si ah vabbè la gara diki faceva di più gg beh anche 130 non è male eh beh insomma 100 è veramente cringe solo 100 madonna torna a leccare le palle basta eh sì ragazzi non giocate mai a brunestars con pandits mi raccomando perché? cosa sono? ma perché lui? cioè lui è proprio che fa quando le cose le fanno lui si incazza poi lui le fa e pretende che gli altri non si ah e cosa ho fatto? perché non spieghi cosa ho fatto? hai detto c'era un botto di partite di brawl in cui ho carriato che tu hai fatto cagare che tu hai fatto cagare come quella con Sandy che hai fatto due otto e io sono stato zitto non è che mi sono messo a piaggio a dire eh non usare più Sandy ok? ok? allora ci sono state otto partite in cui l'ho carriato e l'ha fatto cagare io non ho detto niente prima partita in cui carri a lui cioè in cui li faccio cagare io lui si mette subito a mandare screenshot a insultare che porco dici da finire così ho semplicemente quittato ho detto cagare una meraviglia mi manchi vuoi prendere il posto di Panditz Miwa? facciamo il team del chill e quindi niente tutto qui ragazzi eh ok che bello Panditz me lo spieghi di nuovo che non hai capito si certo e Niko vuoi cominciare di nuovo tu o andiamo a turni stavolta? no no ok no niente G praticamente ha piccato un blowler di merda su una mappa di merda era la mappa open l'angelo è perfetto non devi disturbare mentre part cioè vuol dire che hai torto se c'è diventato un imparato e quindi praticamente le l'ho fatto notare dicendo eh angelo non era un buon pitti niente è finito così e ti cerca un pozzito di merda no non hai detto così hai detto eh magari non picchiamo più angelo eh madonna raga quanto forza via va G ma che cazzo fa? G dove cazzo stai? c'è nell'ultimo qua dentro G c'è nell'ultimo qua dentro G G laori è l'ultimo non armi un punto si ferma un punto si ferma un punto si ferma dove è andata? non lo so uh un punto si ferma non lo so no 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 audio 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 Stavano pushando Stavano pushando Stavano pushando ragazzo Mamma mia che ci sei tu Seba Ciao Seba ma chi era? Ma se non l'ho fatto Speriamo Porco diiii Che pai Perché? Dove vai? Ma perché è figa dove vado? Mi stanno inseguendo loro Non è che ci vado io Cioè Io ero qua da voi Loro mi hanno inseguito fino la Che ci devo fare? E' l'ultimo Eh? Posso dire che godo G ma c'ha il tronus? Si ce l'ha Ce l'ha Ti giuro Ma si Può dire che il papà non li lo comprerebbe Il papà te lo comprerebbe Si che si Minchia se ce l'ha Guarda Ma è in su No esch 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 Non lancia ora venga Se basta per esplodere Che brutta le storie di questo video Nooo Ma questa Ashe è la più forte del mondo Nooo Posso dire veramente brava questa Ashe? Minchia Ha legato Ha legato G mentre faceva il lift E Seba mentre faceva la L1 di Revenant Bravo Nico Ci abbiamo provato Beh intanto tu sei Cioè Spara Noo Ashe Noo Ashe Minchia prendo le conterne io Minchia Minchia divento main Ashe adesso Vai Panditz No sto scherzando Lascio la lascio a quelli senza mani E io devo usare un mirage Che sarei che non di scherzo Il terzo miglior mirage della community? Primo Terzo? Primo? Secondo chi è? Secondo chi è? Primo chi è? Ehm Panditz Io No aspetta come si trovava? Ah manco salso 1 Si vede quanto è forte G shadow Bella questa Panditz Mi spiace Mi spiace Mi spiace Dai Nico fai una top 3 Nico al primo posto Sì Sì Secondo? L'ho cominciato a usare solo dopo che l'ho cominciato a usare io Tossico di merda Nel senso non credo Secondo Nico secondo? Secondo? E' da dire di nuovo eh? Secondo? Secondo? Ehm Miwa Si si è vero vero Terzo? Terzo Panditz E quarto? Miwa che ultava col mirage nelle private da appena responare Ehm Seguite il leader Sono io Tranquilla mio erano delle belle ultimate Dalla mia mamasita E che non essendo me in mirage lui non può capire Dovremmo andare lì Dovremmo andare lì Buona l'acqua Questa casa è mia No 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 Non è vero Nico Ma G ma hai rotto il cazzo Ma splittati Ma la smetti Di più Dove devo andare che sono treccate Mi scudi per favore Non G shadow me Non ci sono abbastanza me Mamma mia Di sicuro non sei la prima main conduit Questo è un po' come sempre Eh sfidi uno Vi uno tutte le altre main conduit Vediamo che è più forte Non c'entra un cazzo il da Non c'entra un cazzo Radificare lo straff Si ma sei tu che vai sempre a terra E piangi che non avevi lo scudo Cioè non è che ce lo puoi avere sempre Dai ragazzi non litigate nel shield Ma io sono nel shield Pandit fai la shield move Io sto E sto io a sempre Falle 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 No la mia speedfire Falle 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 La mia speedfire La mia speedfire La mia speedfire Marika è harta molto più forte con conduit Non credo proprio Nel usare l'abilità Va bene E fai il master nelle ranked con Marika Prossima season Ma per usare le abilità sto intendendo Con conduit Minchia subito a piange Oh Mamma mia Eh grazie al cazzo Se non spari e ti metti solo usare l'abilità Ovvio che le puoi mirare meglio Ma se io nel mentre sto fightando Ho preso due knock Non è che mi posso mettere per due ore A mettermi a mirare meglio te Eh butto l'attacca a cazzo E che prendo prendo C'è Sai com'è Dentro C'è nel mentre che tu piangi che vuoi essere shieldato Io sto non cambio due persone Ma c'è un'altra squadra ancora Ma c'è un'altra squadra ancora Sì Pandit Ma in quanto squadra c'è? Tre Madonna Tampissimo 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 guanna una capita grande toni ti seguo da quando ho zero leggero lascio sempre tutti one vengo sono il più sfortunato negli ultimi giorni sono il più sfortunato negli ultimi giorni ma va bene nico io in questo periodo ho una sfiga tutti one la met maggie vabbè l'ho fin nico nico io in questo periodo di una sfida per capire se qualsiasi ha rotto i coglioni ho zero leggero pandis me ne troppi un po per favore ma non credo non usarmi leggero tossico di merda non posso ballare 132 le vuoi sì che mi dirgli cambiare ma come fa lui mai fatto ma se lo dici sempre tu io lo faccio a te perché tu lo dici a me che faiasso ma lui si vuole tenere i segreti perché pensa di potersi le noccare tutti da solo poi affronta la triste realtà dei fatti di prendere palle eh mi schiardo eh il più sfortunato ma figa quattro ne ho un botta di leggera e le ho trovate grazie mille ma ha quittato l'ultimo no chi è che ha fatto quello sopra sopra in cima io g palle le persone non quittano più come una volta eh ma perché adesso ti prendi la morte se quitti da per terra da vivo te lo non te la prendi però adesso non proprio già da un bel po' sì sì se quitti che sei per terra ti prendi la morte ora e se sei vivo se sei vivo no allora uno ti lascia one shot qui però non lo vedo più fare no non succede più la player base è migliorata anche i membri sono uniti davanti a me bandi spusciamolo gli diamo le falle che mamma mia che sfortuna si 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 sono qua dietro sono cioè secondo me se fai una volte vieni si mai restaurato un'uno di vita l'eureano Un HP non sa chi? L'ultimo è andato... non so se sotto o... Altro team su di me? E' l'ultimo Minchia! C'ho due di vita, devo fare il Phoenix, non ci sono E' l'ultimo è andato Ma che f***a Dio buono, guarda che interviene da tutti Dio Ma che f***a Dio buono, guarda che interviene da tutti 110 sul tetto 29 flash 30 Minchia, ma hanno distrutto Eh, non sono su, eeeh, nico è recente 3-0 un 8? No, no, sono 3-yarder Non c'è un po' di passolos Non c'è abbastanza pesante Vorrei pubblicare un boom, magari un trap Eeee Facci in 3d solo aare Io c'ho un botto di passolos Ho 200 di team Ok, sono Che 3-yarder di merda questi E' batteri sprecato Ne ho tante per questo Craftamera responiamo? Ma ci stavano sparando sulla cazza? Può essere Quello più distante respona Quello più... No, 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 ma... Stavano rompendo la mia ulti Vai direttore respona Craftapandis Che è quello più lontano Che è quello più DA Ok Dove ci mettiamo a fightare? Ma... In mid Magari non vi fate vedere che si arrivano di scampato Grazie, falli Vabbè, vedono le scone Mi metto sopra Merda Ce n'è uno al ponte per ora No, bugia Stanno due alla casa Ma al palco Mica, già la cara C'è Caccato al palco Voto Nocchio Sono sopra 100 C'è One shot Busca Straccata Lule ha fatto batteri lui Però era one shot subito Nemico eliminato V*****a E qui si erano 3 yarder pesanti Le palle proprio La Watt ha fatto 50.000 kill Ma? La Watt ha messo delle belle pants Sì Sì Io sono andato quel portale C'era la fence, la Watt son dietro Ho provato con la squadra Non si direbbe Eh, dal fight che hanno fatto Non si direbbe G comunque potevi evitare di rubarmi la preta Brutto coglione di un bambino Scemo Scemo Vabbè, chill Chilla, dai No, chill È un modo di Vagina offendere con una kill Gigi, comunque è proprio Seba la persona più sfigata Non Gigi ha 4 kg 11 assist 1600 danni Vabbè, ne con il chill E me l'ha pure rubata L'ultimo Povero Giancarlo Un chill Quante micchiatele erano state rubate? Un bot Un 11 non credo proprio Un 11 assist E quindi E quindi Beh, 10 di danno allora Che bello Ha stilato Brutto bambino Perché che bello? Cioè, belle partite Stiamo facendo tante kill È vero eh Visto? Eh, ma sì Perché dopo le prime partite in cui ne stavo facendo di meno Ciao mammi Adesso ne sto facendo di più Ciao Morgana Come stai? Eh, ma le prime partite ne facevi di meno Perché avevamo Miwa che è troppo forte e le rubava tutte Eh, lo so Infatti adesso Senza di lei killo un po' di più Beh, oggi Miwa comunque ha fatto tante kill Rispetto all'altra volta Sì, l'ha stampato No, Miwa ha giocato veramente bene Oggi è stata molto molto brava Sì, è vero Brava Miwa Mi mandi un pezzo di torta Me lo spedisci? Che voglio assaggiare Ma è senza glutine o no Miwa? Non avevo letto Mi ricordo cosa avevi detto Se era senza glutine o no Cioè, Nico mi dai Mi scambi i pokemon scarlatto O pokemon mi ha detto Ciii No Sì, sì Ma lo devo finire in verità scarlatto Ma qual è te due? Ma mi boss mi manca lenti No, ho scarlatto E' più bello Sì, sì, sì E' per forza Mi pare No, sto scherzando Cioè, hai mai giocato sul cesso alla switch? Sì 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 Sì, è senza glutine se vuoi ti mando la ricetta E va bene, grazie Va bene Miwa, mandala anche a me per favore Ho giocato Oggi c'ho da manco Sai come ti... Devi pulire il culo Secondo te li sciaffrono la porta Dai Nico, appena ho la switch giochiamo la Super Smash Bros Ultimate Va bene Sì Chi usi? Qual è la tua main? E sono main NES Ma in verità ti dico... Ti dico la verità, un po' me ne vergogno Ma su Super Smash Bros Ultimate per la switch Ho iniziato a minare Pikachu perché era il personaggio più meta E beh, è divertente Eh, divertente sì, ma è proprio meta Cioè, Pikachu era da vergine usarlo Cioè, veramente molto... E ho Green Ninja Minchia Green Ninja troppo più bello Green Ninja carino, sì Ma Pikachu proprio... Non era skill per niente Cioè, era proprio meta Boh, quando... Ma lo devi comprare con i soldini questo gioco Lì ci hanno messo Pichu anche molto forte Sì Hanno praticamente lo stesso moveset Pikachu Eh? Nooo Me lo ricordo Pichu Sì, hanno più o meno lo stesso moveset Cambia una mossa forse Sono entrambi forti E' che cazzo il cazzo Un bel land 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 Vabbè, ma adesso dobbiamo andare là? Ah, che cazzo bel land cosa? Beh, a Giardini c'erano cinque team, guardali Sì, sì, sì Guardali cinque team a Giardini Eh no, raga, andiamo lì Ma cinque team c'erano in Giardini No, io volevo andare a Giardini, sinceramente A Giardini? Cinque team da quattro, venti persone Giardini Eterni, il duo land preferito Ah, quelli Eterni Sì, specificato, Eterni però Giannico, ti ricordi questo posto dove hai trivellato qualcuno? Ah, sì, ho la clip salvata Miua probabilmente è ancora inconsapevole di... Adesso sei che si ragiona L'hai violata Miua non è successo niente Stai tranquilla Non ascoltarli Ma perché giocano tutti i newcast nel pub? Ricarico Da, è una leggenda molto divertente dove ora Vi serve aiuto? Nooo Ok Ok Il newcast l'ho lasciato one shot due volte Chi è sta coglione? Ma che cazzo vuoi G shadow? Ma... vabbè Da me fightano un botto? Cioè se dovessi dare un botto al fight, almeno un no E' un fight intenso E' un fight intenso Non lo so di provare Un secondo Fanghisto, andiamo da loro Ma si, io però vuole la mia kill Ma ce la fanno hanno detto Ce la fai tu? Ma sanno che ci sei Va bene, bella hit di PK Sì Porco Ma avevate detto che ce la facevate? Vabbè, andiamo in giro Sì Mi fa le modi A me ha spamato dieci frasi e cinque esecuzioni Ehm... vi prego responatemi Responateci, questi devono morire di cancro Vabbè Cioè è un po' too much però vabbè Ehm... Cioè allora No 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 no, non faitate ragazzi Non faitate Cioè risponateci Porco diazze spam execution Ce l'ho io, ce l'ho il beacon Il beacon Vabbè ce l'andiamo da poco Madonna Madonna, madonna Che roia, che fastidio Ehm... andiamo a coltivazione Sì Molto, molto fastidio Madonna Madonna Vedi, poi io sono tossico Che butto uno lo spray e basta Figa Butto uno lo spray Madonna se muoiono prima è rosico Poi sono io tossico, dite Perché butto uno lo spray singolo quando uccido la gente Figa Loro due ore a spammare frasi e spammare esecuzion Ciao Miwa Cosa avete detto? Fatto? Quando? Mi guardo uno Cosa è successo? Cosa c'è? Dico ma mi stai guardando? Potevate craftare lì e fai strompi Ma se c'erano quattro team lì seba porco il fisco Ma faitavano ma il fisco Ma faitavano ma il fisco Ma io non capisco Hai detto non faitate ma sei un fisco Io non capisco Eh non devi faitare il fattore Io non capisco No asce Io non capisco Eh ma Anto se io vengo da te poi siamo solo due Andiamoci che cazzo devo fare No Miwa non è vero Sono morti che fai Qualcuno deve ancora usarlo Io Miwa ti stavo proteggendo perché tu hai ricrasciata E ti stavo proteggendo aspettando che tu rientrassi in partita Ma ci hai trivellato il buco del culo di Lifeline E la stavo proteggendo Si è sparato addosso da dietro Proprio nel buco del culo Proprio ti ha infilato l'arma lì C'è il voto per vedere Non è che Ehm Ma era per proteggerti migo Andes forse ci arriva gente dietro E' morto Patrick Roo 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 No Che marca sono? Sony Cambialo allora Ah ma sono sempre quelle? Si Non ho comprato quelle nuove Come si chiamano le cose? Ulst 3D Ma fanno cagare per... Che piazza E' solo perchè lo dice Arta GG Cioè penso tu le possa usare... Ma l'audio 3D non serve a un capo di piazza Eh ma penso tu lo possa disattivare l'audio 3D Cioè le usi normali Di shadow fai un... Ma rispondiamo qua in 6 dico Go road jump Gi rispondiamo qua in 6 DAI Ma io ho restato... Ho restato anch'io Ci siamo duplicati? Let's go Siamo in 6 quindi Si E' calcolo veloce che hai fatto se... Incredibile 4 più 2 Si vede proprio che hai fatto l'ultimo punteggio nel gioco di matematica eh Con chi parli? Ah esatto Ambiz Tu chi? Ah... quanto ho fatto? 30 Non lo so Almeno 30 si idola Ragazzi c'è un kill di una palla a esplodere Madonna ma che deficit hai io moro Madonna sto mongoloido Fossilio Ma sei beh cosa vuol dire mongoloida? Ok ho fatto Easy Vuol dire... Mica ora ci killano di nuovo e ci rispandono Mica ora ci killano di nuovo e ci rispandono Mi hanno colpito Nooo io dal... dal... Dio buono Dio buono Sei il stabile sebo? No sono nella fiamma Ricarico Ricarichi Ricaricato oggi? Vado a restare sempre Quindi i vostri peggior nemici sono già morti giusto? No penso... c'è non lo so qualcuno è morto Ah erano i quattro a... a spammarvi la roba Ma questi non avevano lo zaini? Non lo so Figa lì cerchiamogli e ti beghiamo sulla cassa lo stesso Perché? Sono morti Eh appunto One shot One shot Serve un caricatore energy Uno di vita, uno di vita Ma sei zitto One shot One shot Ma basta Ragà ho messo 400 danni Orco diiii Prenderanno il bonura Balunna 106 di balunna Ragazzi no Ricarico gli scudi Gli uffici gli stanno sparando Ho frantumato lo scudo di un nemico Ho frantumato lo scudo di un nemico Ho frantumato lo scudo di un nemico Faccio la rampage al 300 faccio Non puoi al 300 In marcia Ho ucciso un nemico Il massimo è 120 Ah si? Lo sapevo Davvero? Anche io Grazie per avermelo detto Grazie Potrebbero essere morti Sti coglioni Di solito quando morivo in lobby Sì ma le gasse rimango Dipende Se le svuotano o no Esatto Mmm Figa come Dracor e Camaleon con barriera di legno Che gli hanno svuotato la cassa? No no che si sono messi a cercarlo per tutta la mappa Perché volevano scrinnargli la cassa ma non era morto da loro Così Ecco le 1 Il pat che mi metteva il culo in faccia con lui Eh a me era il Newcastle invece Minchia baggio è il culo di Newcastle Zitti un attimo, zitti un attimo Ok ho cliccato, come che si chiama? Well played, fine Ok Come Sebo? Ti ricordi la volta che avete cercato la cassa di barriera di legno? Proprio qui Ah sifone di lava Non entriamo per di qua lo so E' bianco Sebo Vabbè C'è cosa qua è da tutto il game lì a camperarsi Poi vinci Madonna ho clippato Dopo gli mando la clip Devo sparare sulla cassa Madonna se ti odio O gliela mando tra mezz'ora Così non puoi più clippare lui Si si e beh è un'ora per clippare in verità Un'ora? Eh si La PS4 è 30 minuti ma PS5 è un'ora Eh da vedere se la PS4 si può Ah si un'ora Glitterna zipline C'è un'ora Ah no ma non lo stanno usando Upsi Dai nico però Chi ha la viola è gay Oh Hanno responato Si godo si godo si godo Ciao da dove? Ma dove? Ah qua Ciao Marika bentornata Come va la tua vacanza? Ma dietro la montagna? Ciao Marika bentornata Come va la tua vacanza foggia? Vabbè E' rosso Magari su loro Eh raga io non ho nemmeno cura Cioè non ho battery Purtroppo non ho da d'orda Va da dietro No non lo prendere Beh uno Che sfiga di merda Che sfiga di merda Eeeh Intentami Cazzo Fanno passata Devo fare un free Ora ero free Pandit Eeeh nico Arrivo Fallare sali Fallare sali Fallare sali Eh ma ora non più Tranquillo ce l'ho Anche tu dovresti provare a cambiare Ma Madonna sti cazzo di sniper Sì povero Ok ok c c c c Pusciano me Penso po' Eh no Io respawno un icono a te Grazie Sono tutto attacco Ti arriva un hop in seba Ross Scappando Vado Vado qui Oh minchia sono andato dall'altro lato Pensavo fossero due in più tale Eeeh Che se non avessi misato l'arrampicamento Se non avessi misato l'arrampicamento Mannaggia Faga God Beh io ho fatto solo due kill però Se non mi sono divertito Eh io pure Davvero Ho due o treạ? Ma ne avrei di sicuro tre Godo No invece Beh, Nico, ci abbiamo provato Beh, ci abbiamo provato Beh, zero assist Ma, Anto, io lo farei Volete entrare nel partito di Anto? No Cioè, a me andrebbe bene Io non ho niente in contrario Ma se mi hai scritto in privato di dire Dino in live Eh, GG, non è vero Non è vero, Anto, non l'ho detto Che babia che sei No, a me andrebbe bene, andiamo? Ma, devi giocare con Anto Anto, lo chiedo, nessuno risponde Che devo fare, Anto? Poi vengo io, siamo da soli G, vieni con me nel partito di Anto G, vieni Eh, no, G, hai detto che dobbiamo decidere noi G, vieni con me, G Che cazzo volete da me? Chidi a Seba Decidi Seba Andiamo, andiamo, andiamo Beh, Seba ci divertiremo in due, in corte Ciao Ciao, Anto Ciao Ciao, sei il mio idolo, lo fai? Anche tu Anto, mi fai un master? Gratis? Eh, sì, è gratis Mamma mia, grazie Anto, sei il mio secondo idolo Ha i messaggi bloccati, sto rincoglionito Chi? Ah, lui, che palle E cos'è lì scritto nella richiesta? No, non si può scrivere, su Play 5 non si può Ah Su Play 4 si poteva, mi ricordo Eh, lo so Mi sentavo direttamente lì Eh, Anto, puoi aggiungere, puoi andare ai margini qua Certo, è in quel modo Forgo di Basta, loro il Nemesis, io la mozza 90 Acaci di nuovo A me gli piace proprio tanto il pisello Eh, anche a me Che, perché ce n'è uno là? Boh Madonna, io che sfiga che ho ultimamente, ragazzi Non lo so C'ho una sfiga ultimamente, pandiz Io, boh, ti giuro Mi dispiace per te No, io ti giuro, c'ho una sfiga ultimamente assurda, zioca Eh, ma lo so che non è colpa mia È colpa della troia di sua mamma che mi insegue No, raga Non gli ho fatto niente Che palla Raga, ne ho knockato uno da me, eh Mi sto curando Si paitano qui, si paitano qui Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo è questo? Ma che cazzo è questo? Ciao, maricox Eeeh Hala, hala, hala Hala, hala, hala Che dimenticare cazzo è marico Madonna, che sfiga di merda che c'ho in sti giorni Ma ne ho lasciati guardi ad altri due Ma io ora mi metto a piangere, io ti giuro C'ho, non so, bandiziotti, non so C'ho una sfiga, porco diaz 131 bianco e 130 all'altro bianco E non è morto nessuno Cioè, io ti giuro, è assurdo Non so, basta, non mi piace questa partita Sì Veramente Povero me Guarda voi che fortunati, invece Guardate voi che fortunati Vedi? Ma netamente è bravura la mia, non so Eh, ma lui non viene confermato subito, vedi? Seba mica lo vanno a confermare Perché lui non è sfortunato come me Eh, no, mi sta guardando Tutto sotto controllo Ma che fortuna Non ho neanche guardato il thriller di FC 25 No, da dietro che me l'ha ficcato Ma non ti confermano Perché tu non sei sf***ato come me Eh, dove stai? Ragazzi sono tipo 20 team No, 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 no Nico Minchia, Nico, Nico Nico, Nico Io ho la fida Confermateci, Shadow Dio bono Solo io vengo confermato Mannaggia, oh Comunque è il culo io Vabbè Minchia, hanno cato quattro volte Ma hai confermato? Sono io quell'ho spiegato Guarda che mongo conferma Sto stronzo No, invece è un buono Dai, vabbè, ma non ha senso Ma vaffanculo, dai Figa, vado a scrivere al Fuse sul PSN Nico, torna indietro e confermalo Dio caro, dov'è? Io vorrei uscire da sta posizione di merda Ma che è con l'eco, Dio madonna È assurdo Ma com'è che non l'hanno confermato? For real Ma dai Seba mi sta forrando C'è uno ha camperato qui G che te lo fai, bianco Mi faccio confermare, oh? Se vuoi Ho fatto ovviamente Qua l'hai trasportato Qua non sento più l'eco adesso Comunque Dopo che Ah, era Marika Quella grandissima Fronzetti Che sfiga Eh, Dio bono Che sfiga che hai in sassati, no Danno chi dà Abbaccia di capre Ma manco ti conferma Ti nocca e va via Ti nocca e va via Ti nocca Guarda la pulvide, va via Ma merda di piangere G, hai crafters fan dietro Cos'è che ho dietro, Fanny? Il culetto Ah, G, ma potevi craftare dopo che era stato confermato anche sempre? Eh, che ne so io, l'avevo già craftato Occhio G, occhio G Oh, lì va dritto Ti dico occhio Occhio per occhio Occhiamo all'occhio Precciamola Precciamola all'occhio Eh, beh, è un ortaggio Beh, è il super glide Non mi parla picare col banner in mano, che stranzata Già hai visto? Madonna che sfiga, Dio caro Guarda che hai Nico Che sfiga che c'ho, zio caro Oggi, incredibile Ma in generale in questi giorni In questo periodo? Eh, sì Negli ultimi giorni No, Nico, troppo i tipi sono molto di me Grazie Toglimi la sfiga Forse sei tu che mi porti sfiga, allora Per la connessione di merda, Marika Riusciamo a incontrare in certe land? Povera Marika Marika, ma la connessione è lenta come una lumachina C'è un pezzo di merda in cui puoi chiudere tutte le porte Porco di... Eh, mi sa che gli hanno chiuso qualcuno Eh, ma lo so, Momi, che prima ho fatto una partita della Madonna Però, cioè, da periodi Tipo anche in quella partita Comunque ho avuto un sacco di sfortuna Avrò fatto 11 kill ma ne potevo fare 25 Cioè, comunque sono molto sfortunato 25, hai detto, beh Eh sì, molto sfortunato in questo periodo Madonna Oh, hai rotto i coglioni, Nico, ti vengo a prendere sotto la data Ma che cazzo vuoi? Chiudi sempre queste porte di merda Figa, ma le devi chiudere Ma le chiudo in automatico Non lo faccio apposta, non ci penso No, non ci penso Non è che penso figa Ora gli chiudo la porta Mi viene automatico Le chiudo sempre Io lo penso Ah, ora si chiude la porta Allora, se ne sticco uno A tanto E mi sta laggando tutto 100 euro a tanto Ma quanto sto laggando? Ho 400 di packet loss Ti giuro Ti giuro Non l'ho sticcato, Anto, mi dispiace Boh, vabbè Cioè, vedi? Vedi che a me si butta Figa, si chiama Edgar, madonna No, la kill Perché ho deciso di non comprare? Basta, io non la voglio più giocare Sto partito Dove sono le personaggi? Anche perché non posso Ma ne avete altri? Sì, sta restando Di sicuro non è di G Vabbè, io vado a restare Sì, devo andare su No, ma è solo sta partita Ma c'era pure il terzo Però caspita, Nico Non avevi neanche una batteria Oh, madonna Non romperi coglioni Io che anche l'ho preso, go Madonna Madonna Con la scuola dei 300 di packet loss Forco dici Ho pushato questa Cioè, stavo caprizzato Stavo zica Trolli 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 Ma stai trollando Oh, madonna G-Shadow Di un'altra parola Ti apro il cervellino Oh, madonna G-Shadow Oh, madonna G-Shadow Oh, madonna G-Shadow Oh, madonna G-Shadow Posso farci un video su YouTube? Sì Tipo Ciao a tutti ragazzi Oggi Nico My God Mi aprirai il cervellino O una siringa Dopo che se sono morto E' bello Ah Ma G-Shadow No, io che ti resto con 70C No Gli ho sbagliato strada, mi so Loro sono dentro una montagna, tipo Ma da qua ci passano G-Shadow Da qui Pandit Abbiamo fatto un attimo un giro tondo Giro giro tondo Eh, lo G è morto Pandit Tressa Per favore Ecco io, signora Thomas Ed, eh Dottoressa, Thomas Ma con chi sto giocando? Beh, con me no, perché sono morto Ahahahahah God Flammati i loro due Beh, no, visto che stavi flammando loro che hanno fatto un giro subito Io di sicuro non l'ho fatto perché sono morto Pandit Noo Pandit E' passare il timing delle cure in... Ma stai trollando comunque In season 21 Dai, vieni a me al sole Sebo No! Ma con chi stai giocando? Io cane Ma con chi stai giocando? Non ho cure, come vi resto? Vai verso la Seba, non verso di me Tu resto Tu resto Eh, sono morto Che palle la Seba che gioco di merda Io neanche ne ho, eh Non ti fermare Nei zero? Sì Ma i tei fandi si è fermato Eh, ma son morto Sei morto Che culo! Eh, ma son morto ora Ma ragazzi, siete morti Ma ragazzi, siete morti Ah no! Che cazzo fai? 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 Edgar mi ha ucciso Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? GG Eh, avevo 300 di packet loss io Sì, vabbè Vorrei vedere la clip per poi Me la fai vedere? Va bene Potrei tecnicale brodi No, non te la faccio Potrei tecnicale brodi Vai, vai tecnica Seba se vinci ti do 40 euro Dai Dai Ti metti che trollano col cazzo Dai la tecnica santro Eh qua ci voleva Ti metti che trollano Ti metti che trollano Beh io avevo zero pure Raga ma avete sbagliato strada In una cazzo di grotta No io sono andato a primi la cesta Era benissimo la grotta Era la caverna La grotta di panni In quella grotta mi sono trovato un bel medico E io no Ho trovato un bel cioolo Comunque quanto piangi madonna Cioè è buono sei morto pure te sti cazzo Ci sta che trollato Non ti ne sono ti dice niente Una volta Magari uno v uno te lo puoi anche fare Magari era solo uno Chi lo sa E' quittato non lo puoi sapere Dici Ma io non sono morto quittato Ora metto una skin Brutta La skin di Antonio Ah no Metti la skin di Anto Metti la skin di Anto In onore di Anto Quale? E ora ti dico come si chiama Ciao Marika Ti dico il tuo segreto Mi ha detto sei un pezzo di merda Ciao Marika come stai? Beh che cosa vuoi? Oh niente ve l'ho sentito la tua bellissima voce Ora puoi tornartene a cuccia Ciao Che cattivo Va bene Se sono prima di Panditz Mi rubo Mirage Nico Ah cavolo Ecco perché Ma infatti me lo stavo proprio chiedendo Nico mi stanno sudando le cosce Ai consigli? Anche a me Panditz Ai consigli? No che schifo lavarsi Sì Beh scusa cosa c'entra lavarsi? Cioè Asciugarsi? Nico secondo te se me le lecco Cioè se me le lecco il sudore Madonna Gishado fai schifo fai Vabbè Finalmente Finalmente Ma è la stessa tecnica che hai fatto col vecchio di oggi? No No Lui mi ha fatto da solo Non ho bisogno di aiuto Oppure Nico 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 C'era In mare In acqua Un signore che si stava cambiando il costume Non so perché Forse si è cacata addosso E c'era E c'era Un bambino con la maschera Che stava nuotando Sott'acqua E metti che gli vedeva il culo svolco E vabbè Fa veramente ridere Giancarlo Complimenti Sì sì Nico Sì sì No non uso la maschera Non mi piace la maschera Non mi piace la maschera Cosa ho? Sì Le banane Dovreste provarci anche voi Ah Hai Ad monumento Dimmi Ma senti Vai 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 È il tuo master che balsa? Guado tanta Allora tocca a te soffrire per me Nooo Dovremmo atterrare qui Cioè immagina a pingare i depositi industriali cringe chi è sto coglione 3 1,2,3,4, 20 persone Bellendo Andiamo lì Sono esche di mirage Bellendo La carattata sembra che è legenne Ah me lo dice anche tua sorella Bellendo Me lo dice anche tua sorella Bellendo Ma ragazzi che sfortuna che ho Nell'ultime settimane Uno di vita Dio bastarde G 86 Bengalore Bengalore 86 bianco la bender Bravissimo Mamma mia che pisellona Oh è questo Non sto capendo niente Comunque Nico che sfiga che ho offerto due cesta e due P20 Madonna Quanta sfortuna che hai ultimamente Cos'è che oggi sei su urbando comunque Boh La bengalore l'ho fatta fu... E infatti volevo dire l'ho confermato e hai comunque più danni di me Perché avevo 115 dopo averlo Un bella setting C'è un nico che posso chiedere che è un'accusa Dimmi chiedimi pure un'accusa Un'accusa L'ho fatto con 50 mira punti no? Ehm... 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 Anto non capisco niente però Ehm... Anto non capisco niente però Ehm... 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 Parla per te Ma poi non è vero non sai fai tanto Dov'è il mirage vero? Ma era quello? Eh non era fatto No non era fatto No perchè l'avevo distrutto con la mia wingman No perchè l'avevo distrutto con la mia wingman E poi l'ho già amato No perchè l'avevo distrutto con la mia wingman One shot da nico No da coglio Oh dov'è sto coglioni? Ehm... Ehm... C'è No 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 Mennico ora te lo posso chiedere la cosa La cosa Dimmianto Te riscatto 50 mira punti una volta che mi chiede Ehm... Ehm... Te riscatto 50 mira punti una volta che mi chiede Si? Eh? Ci giochi con me Si Ehm... 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 Si Ma non ti fa pena antonico tu? Perchè? Boh non lo so E' la sua voce dal cane abbastonato Ma lui si è fatto il diamante nel chill Cioè... Cioè... Invita mi... Entra in party che sono... Mi sento solo Cos'è che ti hai chiedito? Eh si Se si sono non tante perchè ho giocato quasi solo rankets Tipo 2000 e qualcosa Ok ragazzi davanti eh Perchè devi agoncion? Che fuori Occhio eh One shot Che sfiga di me Mi conferma ora Mi conferma eh Guardalo 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 porco 10 No 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 Guardalo guardalo eh 150 mi deve confermare pure Oh ma guarda d'amore C'è una sfiga zioca ultimamente porco diazzo 160 viola al... No 160 viola al caustic Mi devi pure confermare Ah perchè? Fammelo restare a me che ero il 275 No Ma pandiz... Cioè... Ma ci fai caso tu? Sì sì che sfiga A parte l'ho fatto proprio 11 al... Al... Al caustic Al caustic Ma te l'ho detto C'ho una sfiga minchia Una sfiga cioè Madonna Poi ti va a fanchillare cioè Appunto Poi tipo G-Shadow non lo conferma Gli passa un 40% davanti e non lo conferma Sì ma figa prima il fuse che gli passa davanti Incredibile oh Gli passa davanti, lo guarda, va dritto No ma è infatti una cosa assurda Eh... No ma c'è... Ma ti dico guarda che... Ultimamente poi c'è così proprio Ma non è un... Cioè non è che tu dici magari vabbè Sarà un caso che hai sfiga sta partita No no è proprio ultimamente Ah sempre così eh? Eh... È sempre così ultimamente Sempre così Cioè Morgana Perché al mare vede i signori con le slip con mezza palla da fuori I signori col boss con le palla da fuori Ma basta G-Shadow Ragazzi G-Shadow ha visto la sua prima palla e deve flexare Non so cosa succede Non so cosa succede Qua al mare lui vede solo palle Eh 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 Non è questa mia se mi svolgo Se non è lì in spiaggia a fissare le palle delle persone Se no non si spiega come roba Di vecchi giocato Si si guarda qua Mi metto a guardare il pacco di vecchi Sì si ma se no non si spiega Se hanno lo slip è impossibile Se nel boxer magari La retina di scartare i camionni Mi conto cosa metti al mare il boxer o il slip? Il slip penso sia uno pre-gay E anche l'angelo Wow Miwa quanto vorrei assaggiarla Eh? Eh la torta BASTOOOOO Tu fai i doppi sensi di proposito Ma non è viro Sta parlando della torta alle castagne cacao Oh avete rotto il cazzo Zio cane Sta di brownie Buono il brownie Eh a me piace un sacco il brownie Il mio dolce preferito Ai ziongine il fio C'è ovviamente io C'è lo faccio notare eh Così Sessanta flash al fuse Cosa Eddio C'ho una sfiga dio caro? Ho fatto pure essere apposta Mi sparano Non è che c'aveva Newcastle C'avevo lo scudo davanti Io di P-20-20 eh No no l'ho fatto apposta Guarda da con farm agire eh? Ehm L'ho fatto apposta proprio Ehm Dedico a te Miwa Questa tripla di P-20-20 Peccato che non avevo il mirino Non vedevo niente Ora col mirino Spero di vederlo un po' di più Ciao Nico Ciao Anta Ehm No ragazzi edgar Oh no 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 Mi fate confermare per favore Ho finito le cure 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 Oh no Sì ne ho da darti però No edgar Ma vedi da me che abbiamo un bel angolo Tieni Noo un HP Raven Ma non è vero dai Ovviamente Dio cazzo Dio caro Dio caro Non mi frega una sega pusho sti qua davanti Dio caro Oh no Oh no Ma Nico ma è fronte Ma Nico ma è fronte Sta accanto Nico Ma Nico ma è fronte Ma Nico ma è fronte Ma Nico ma è fronte Ma quanti sono raga ne ho nocati 8 mio caro Ma dov'è qui Ma raga io non capisco io non capisco Ne ho nocati 3 tipo non ho preso le kill Quanti sono C'è ne uno qui ho Ori qua ti fa battere Nico Ma ho scappato io Rave qua occhio Nico Rave qua C'è ancora gente minoccata eh Ma quanti Non lo so si ma è pieno 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 Io ho G prendi ancora per il culo vai Madonna 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 Che per te ti prendi ancora per il culo Eeeh Kronos Mais ma anche per un altro tipo Ehi Niko Ma un bel resto Nico M-Niko Fatemi chillare E che ho 0 culpi Eh però Nico fa Sì va Sì va Sono per morire Sì va Si ca** di nemici Ma dove finisce la mia vita Gi Devo fare i culpi Non posso Ho zero colpi Non posso sparare Va bene Nico Ma io non ho preso Una kill da tutti quei knock E neanche io Ma io spero che voi stiate trollando Figa quello che mi dice Grande Nico Non potevo sparare ti giuro Io non ho preso due kill Ma figa ma io neanche Ma io non ho caduto un bot Figa nessuno ho confermato C'ho una sfiga di obono Ti giuro Non lo sto memando Ma tu non potevi craftare Ho craftato me di niente Ma figa ne bevi due Ce lo davo io Ma non ho nulla Ma io non avrei craftato la batter Ma ti ho dato due batteri prima Eh le usate grazie Prego È l'ultimo team Ma craftiamo loro Facciamo il fight Ha vinto il team del Rev Si ma io Ma io li vado a craftare Bene 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 Sono blu comunque Hai un response Perché adesso C'è Rev che era tipo viola Però c'ha solo i due peccati Eh è di Garpandit Eh chi ha detto che ha vinto il Rev? No è Immortal Quincy Ho visto chiacchillato Chi è Quincy? Ah madonna Eh però te le crafto? Cioè dove ho responato? Eh non lo so Ti respono qua C'è un trasmettitore di rinno? C'è coltivazioni? No perché ovviamente Quando si tratta di responare gli altri La fortuna ce l'ho Lo trovo no? Ovviamente Quando c'è di mezzo pandits Per forza che No ne ho due solo Eh? Ne ho due È leggero invece? Ne posso mollare Ho il PK con il secondo Le ho le ho le ho Unissimo Meglio cambiare Andiamo Proprio un minuto Io Direi di entrare da finestra Ecco che c'è Si si Vabbè Nico non ti dico Le mie chili mi danni Cioè perché sei Mi hai rubate? No rubate no Ah Boh Vabbè Vuoi sapere? 5 990 Beh vabbè Io ho due 800 Minchia Cioè abbiamo fatto solo noi i danni Ebbè siamo morti noi Io ne ho Due mila di danni Anche io Però compri fill Eh Nico Posso farci una domanda importante? È un segreto Nico ne ha Ne ha qualcosa Apro la prima Dai ma perché? Ma guarda alla fine Dieci ne ho Dieci Ma guarda alla fine Dieci ne ho Se non sbaglio dieci Dieci con duemila Otto danni Mi fusta l'hanno preditato Allora Raga uno di vita Che sfiga di merda Porco diaz Gli ho fatto 150 blue al mirage Madonna Spacco qualcosa E' un po' di danni No E' l'ultimo qua dietro? Ti prego pandiz Risolleva questa partita sfortunata Uno Mamma mia Wingman qua Ma l'ho preso Stavo ricaricando Eh con un colpo su 12 No l'ho preso con tre colpi Ah Dai per favore Ma va bene Ma stiamo chill Dai No fai il tossico Vaffanculo Ma non è tossico Come tu oggi su Brawl Stars Che hai detto Eh Angelo non lo picchiamo più E io ti dico Non picchiamo più No 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 Ho detto non picchiamo più Angelo svegliati Ma non lo picchiamo Lo dico Lo dici a Seba Lo dici tu Ma io sinceramente Potevo fare 40 kill Ma sono stato sfigato Baranza non credo Sì 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 A voglia Nico 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 Ora possiamo farli Game che ha riscattato Vero Eh sì Sì Anto ha riscattato Una partita insieme Decidi tu chi levare Anto Puoi paccare Pandy No Devi decidere tu Se ne va via Gisciato Emma Gisciato è mio amico Eh sti cazzi Sì quindi non lo levo Pandy Mi dispiace Devi andare via Mi dispiace Devi andare via Anto Vuoi Horizon No non gliela lasciare G Non gliela lasciare Vai intanto deve fare un game Deve partita Gisciato no Non gliela lasciare Gisciato Gisciato fa il Uomo con le pali Anto come va va però Certo Eh sì è una partita Mi cona win Gisciato avvenenato Gisciato non vedo l'ora Non vedo l'ora Madonna Una partita E se moriamo a land Eh no è una partita Scattata Come va va Se Anto però fa più di mille danni in sto game Gisciato il post Allora Qui bisogna Trajardare ragazzi Vai Anto Madonna 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 Anto Trajardone Trajardetela tutta Lasciate tutte le conferme ad Anto Ma perché povero pandiz ragazzi Che vi ha fatto scusa È molto simpatico come ragazza Ah ti spiego G Perché potrei dare un po' del ritardo Del scoppio ritardato a Edo E a Anto di solito E quindi sono un po' triste Occhio malocchio dente di Ma ci sta eh Dovresti specificare Crede in questo caso Che sia l'ortaggio Beh lo dice Lino Panfi Occhio malocchio Prezzamo le pinocchie Io me li mangio i pinocchi Sono molto buoni Devo taggi Guarda Gisciato che tu sei a rischio Perché? Non lo so Ci sta Ci sta C'è Gisciato perché mi hai dato già massa Eri dal lato sbagliato Anto devi fare tu questo game Che land è di merda Beh che sbocco Dici? Ma Pandits Chi stai guardando scusa? Sto guardando te Nico Alla tua live Va bene Ma allora vedrai Quanto sono sfortunato ora No perché adesso ci sono io E quindi automaticamente sei normale Non penso però Eh sì eh Ah sì Quanto mi fai neanche 100 danni Perché c'è un emlock blu? Eh che grande sera Buongiorno Figa una sera Una sera che giochiamo Ma c'è ogni partita Figa Se prima Vabbè Gigi Non le ho mai trovate Ma non le ho mai trovate Gigi Minchiaiocio Io uso ogni partita Lavoc blu o viola Non le ho mai trovate Se va tranquillo E deve fare il tossico Gigi Gigi Grazie Warzone Mai giocato Ho giocato una sera E eravamo troppo forti Mai giocato Ho giocato una sera Mai giocato In modo fisso L'abbiamo giocato la prima sera che è uscito Abbiamo fatto un sacco di wins Però non ci è piaciuto troppo Ma come si chiamano? Wins proprio? Sì Wins Wins è la tua mano Nel infinito Ciao ragazzi È la seconda arma che trovo blu Ti giuro non mi è mai uscita Ti possono anche uscire Viola lo sai? Ciao Nico Ho preso il lombo Perché devo fare mille danni Per non far giocare più pandiz Bravo No non ho detto più pandiz Ho detto sto game Boh Sai non capisci Ma tanto non li fai neanche col lombo No È ovviamente È ovviamente È ovviamente È noccato Ma verrà risato pandiz Normale no? Però non è noccato È strano Beh è strano Non ci posso essere omesso Ah prima Ma io sono fortissimo È che sono sfortunato Come giocatore Cioè è questo Ah vabbè Pagiolo si vanta da solo Ovviamente quello là Prende la kill mia Appena rissata E vabbè Che ci rifà Eh certo Pandiz lo ha visto bene Che ne uno l'avevo noccato io Eh però Eh era full Uno di vita Uno di vita Che figa Porco dinci Anto con lombo Dall'altra parte Della mappa Lo deve prendere Ma ti pare Ti fa incazzare È l'unico che ti vuole Ma ti pare Quello one shot Mi devo beccare Quello di lombo Dall'altra parte Della mappa Che lo ruba Oddio Oddio Dall'altra parte Della mappa Oddio Dall'altra Ma stanto Hai perso punti Mi dispiace Ma non è il rank Non mi parlo Bella Seba Questo L'ho capito Io Tu Nicola Hai capito Se vuoi te lo spiego Ma addizio Non lo capite Vole a vedere Perché praticamente Nico intendeva punti Nel senso Nella sua tabella personale Di Ma c'è veramente Questa tabella personale Secondo te Sì sì C'è Secondo me Sì Elencamela Vai Fammi la top 5 Vediamo Io ti dico sì o no Allora Ma casuale O No in ordine Devi dire Ah in ordine pure Cazzo Ma di che è più stupido No Sì ma io conosco però Quelle persone un po' più famose C'è quelle con cui giochi spesso Vabbè sì ovviamente Tipo Martina Non te lo so dire Martina Martix 92 Eh Non so che rapporto È un bel rapporto profondo Però nel senso No Cioè non La classifica di cosa Dei migliori di Nate Non proprio team Anche come Tabella delle persone Che preferisce Nico Tipo no Tipo Qualcosa del genere Allora io Top 3 Metterai sicuramente Seba Però non so se Top 2 o top 3 Top 1 No di sicuro Ma chi c'è come prima? Eh ci devo un attimo pensare Ma non c'è top 1 Perché a volte litigate E cose Quindi io dico Seba top 3 Com'è che si dice? Nico top 3 L'amore non è bello se non è litigarello Vedi è pannezzo Vabbè ma chi scatto è bello Eh poi devi dirmela tutta Eh no devi dirmi se o no hai detto Eh devi dirmela tutta Cioè No no prima devi dire No eh no Eh no la devi dire tutta Eh bello Beh secondo posto Rivo Secondo me tu e Rivo Avete fatto sessunale Durante le fiere Poi Staccia top 4 Dracor top 5 Fai che cazzo Dracor Figa Cioè nel senso Gli voglio molto bene Però Appunto vedi Sì Non ci sentiamo in modo Costante da tanti anni Cioè se ti riferivi alla tabella Anche dei Dei teammates Non ha molto senso includerlo Ah allora Dracor lo togliamo Allora in fondo però Mettere sicuramente Edo Proprio un Ultimo top Sì sì Proprio ultimissimo Ma allora sia proprio teammate di gioco Le ragazze non valgono comunque Eh io mi avevo già lasciato il primo posto Una ragazza in particolare Però Allora niente Beh Miua Nono Marika Nono Boh S'ha finita No 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 c'era un'altra Che secondo me Sa molto più simpata Davvero? Sì L'ultima Che non Non so perché E' sparitata la commune Marti? No Meriaka No E chi? Inizia con la V La Vale Sì La Vale Sì Cioè Ci stavo simpatici No pensavo all'epo Che lì Troppo simpatico la Vale Va beh però top 1 No 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 Ma si ma perché tu sei un donnaiole? Che per te fatto seba scusa potete riparlo cosa mette mille donne c'è fan di zona guarda mi dimmi che sfiga o nocati ma figano kt2 one shot uno dai avanti no no quanti cazzo di danno fatto qua dai vediamo alto vediamo anche di danno cacciato quasi provato c'è quanti danni ho cacciato ci ho provato figa ho noccato ho noccato full a ori ho noccato fully revenant ho fatto 158 alla valkyrie scusami no che sfiga no è insomma dai non è sfiga questa non è sfiga no ma va regolare non è sfiga questa ma quindi dai sta top 3 pandiz ti mette di apex io ti dico sebo top 2 ribo c'è tipo la top di con chi giocherei più volentieri fai una cosa così più volentieri ti dico subito mio perché ragazze non valgono ok allora dico seba ribo eh ma devi metterli in ordine ah in ordine prima gli dico top 5 cioè dico di la top 5 e poi la ordini vai allora secondo me ci sono anch'io nella top 5 poi però non sono una top 3 ovviamente ribo poi ribo io prendo chi con che cazzo di altro giochi nessuno dio buono g shadow proprio con g shadow non lo so non ti trovi molto bene prizzi con pizzi sicuramente pizzi lo metto a top 5 e manca però la top 1 che non saprei a chi lasciarlo no 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 l'ho lasciata ribo top 3 manca e non lo so la lascio vuoto ribo top 1 insomma le ranked mica tanto vabbè ma sì anche perché non giocavo nessuno in realtà dai nico dimmi a top cioè io ti dico sì o no no l'hai sbagliata tutte c'è prizzi non ce lo metterei dentro in top 5 perché ti mancava così tanto dio buono mi mancava molto c'è mi piace molto giocare mi esploso tutto adesso ti ha già rotto il cazzo che cazzo è ah non si è online mi hai lasciato tutto eh stai laggando si sente ehi nico puoi mettermi nella lobby dai dai basta che giochiamo zio cane sì infatti mi sono veramente rotto le scatole sto avviando anch'io la lobby c'è solo la lobby in ogni gioco tranquillo c'è anto ehi nico ma io sono nella tua top 5 no ragazzi dio top 10 top 10 no e boh seba dovrei aprire il gioco top 70.000 anto esci hai riscattato un game hai riscattato solo un game ma super ma non vale le stai abusando hai riscattato un solo game non vale ma i miei punti valgono il doppio ma c'è il quarto levati ragazzi sto riavviando il secondo 5 minuti e vabbè dai pandit smetti pronto dai facciamo un game veloso eh sto riavviando dai levati a cazzo ma lo sta facendo a forza ma non gioca ribo sta memando ma si che gioca un game se lo fa per il meme ribo se lo fa un game per il meme ma entra e poi quitta dai prova proviamo anto prova a uscire ok prova a uscire ah se te lo dice lui si tu madre oh fu se esci ribo non ti parlo mai giù oh fina ribo neanche ma neanche sarà pronto a giocare cioè sarà tipo mezzo disteso zio k ma come fa a essere a livello più alto del mio ribo quanto cazzo hai giocato cioè non aveva smesso tipo un anno qua fanno questi a mettere pronto io ho messo pronto e ribo che boh tanto togli il pronto all'ultimo ecco che figlio a posto ribo abbiamo finito di parlare oh finalmente io l'ho detto scordati share play scordati tutto che è successo e g praticamente aspetterai una sua orellina piccolina si che beee no boh g è la vuota ma ciao g sai come si fanno i bambini ciao no me lo spieghi no penso devo mettere il dito che indica dopo che metti il dito no devo mettere prima il dito che indica cioè ma io veramente ma devi mettere prima il dito che indica Anto quanti anni hai? io ho 15 anni minchia sono tantissimi i 15 anni e avete più o meno la stessa età bella questa fanlitz grazie g poi non abbiamo così la stessa età abbiamo 4 anni di differenza esatto dai vediamo che cosa se mi hai scritto di nuovo minecraft ti blocco ok va bene ma nico come facci via a sapere che ti scriverò così? è così è così che funziona e adesso ti rubo con invocchiamoci le maniche squadra arrivo subito miei cari c'è simpaticone santo hai visto fanlitz? Anto ma on the up ma chi è il più forte ad on the up su fortnites tra di voi? io l'unico che ha finito la mappa Anto prima volta che abbiamo giocato on the up insieme e io questa mappa ho finito ho un bel po' di gold non riusciamo anche ad arrivare in season 2 a momento è super mega strabiliato strabilioso se no nico andiamo a fare box vai tu e liuk Anto ti spacco ma pandiz tu ci sei al game su week vero? no buone ma sai nico che un giorno quando so che sarai un evento io ci sarò e tipo tu non mi riconoscerai ovunque sarai ma si e ti riconosco ovunque sarò ma minchia se ti riconosco cioè ho visto quella foto lì si ma quella in cui ti arrampicavi sulla scala ti ricordi? ahhh si perchè ti arrampicavi e poi anche quella in cui hai fatto il pollice all'insù ti ricordi? che ricordi? no quella no non credo quella ne sto dai Anto devi trovare il game l'hai prende a me a 108 eh 104 no 108 se no che cazzo c'ha ho finito i colpi ho finito la vita eh pure io mancava mai spray no di resta tutti ah il mio di sicuro no perchè me lo sono confermato guarda porco dico non mi ha sottato nooooo tanto dico ferma a fin dei colpi ma dico guardalo è qui è fermo eh puoi togliere lo shield porco dinci ma lo devi tenere lo devi proteggere si 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 non lo so non lo so cioè gli stavi shieldando tu se lo levi due secondi magari ma mi sa simpatico si vabbè grazie aveva delle belle tette scusi distratto no vabbè distratto la mia guardia gioco a quattro partite con leggende diverse sono a 3 su 4 impossibile finire quella sfida è vero eh eh ma è molto difficile da fare è vero eh c'è cavolo ben rotto madonna g shadow guarda che tu sei a rischio eh te lo dico ti parte il cervelletto g shadow eh niente niente non c'è niente da fare prima è stato divertentissimo ciao nico mi mandi la tua top 5 su telegram così la manda a pandiz e pandiz la manda a seda ma io la so già me l'ha appena scritto dici? si si dico è nella top 10? dai non è vero tipo edo posso dire che è nella top 10 grazie al cazzo giochi con 10 persone edo si o no? edo c'è nella top 10 ma è 10 ma veramente? si nella top 10 si edo no 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 ho visto adesso che alle 19 Prizzi ha mandato tutti gli screen delle partite fatte con i due anto tutti e? come sono andate? no tutti no perché alcuni erano quelle totale ah quando ho fatto cagare dici che non li ha mandati? ma io me ne ero andata a arrancare con nico minchia ho fatto zero danni in... quanti minuti di game? due minuti greve eh poi ma io e Brizzi giocavamo insieme 477 danni in 10 minuti ah lo so ci sta 115 danni in 7 minuti beh ancora oh 928 danni muore Korg poi 172 377 221 442 bravo! ma il colombo? eh? facciamo in zona calda o? in un gameplay però eh quello da 900 scommetto eh eeeh la sfida che ha inizio ah non sta più nella pelle Giti potresti scambiare quella skin di merda che mi massomiglia è gente che timma molta Luke è praticamente ingiocabile si eh? va bene dai dico eh lo dico eh cioè adesso le ranked da 5 stagioni che sono ingiocabili ma non c'è nessuno ballando zona calda era oh zona calda primo land si vabbè ma ora dobbiamo l'usare e andare a cercare la gente possiamo utilizzarla ma c'è gente? weeeh bel land non c'è nessuno si cazzo c'è da me eh merda andrei fandi? si quanti? uno c'è una mano? si no no vabbè non confermarlo non confermarlo aspetta fido una mano a te baggardo nooo ha quitato vabbè se invece si ma poi perchè dovresti darmi una mano a te baggardo? io non ti baggo ma tutti morti? no l'ultima è da me ma io ne ho fatti due come l'ultima è da te? nico e uccideci nico c'ha 10 di vita e che che sfiga di merda Dio caro che sfiga vabbè è grande quell'altro uomo che sfiga madonna cianico ma stai chillando? la tua mamma zocca vabbè crede si che riso ce l'ha pure uguale è la mia però e ci sta nessuno fiero bastardo se sei orfano g cazzo parlo e ricarica vuoi foto vuoi foto dai dico un voto da una dice la mamma di gshadow non posso beh alla sorella non puoi, alla mamma non puoi padre e in privato e in privato dai dico in privato vai quanti voti che do? quando mai? ma li do tutti memando cioè figa do sempre dieci quasi giugì giugì si si questo qua è per pararsi il culo perchè gli sta per dare dieci dieci? dieci ma perchè nico sta andando completamente da solo e poi muore e dice che sfiga beh dipende di cosa sfiga solo se gli faccio più di 130 se no no solo se gli faccio più di 130 se no no se no non dico che sfiga vabbè almeno lo sai io adesso ma che sfiga ma che sfiga scudo nemico in frantumi mi spara noi hanno una buona mira mi spara noi hanno una buona mira buona shot sotto g 1 minchia sono 3 eh io ho detto 1 ho detto 1 ho detto 1 ho detto 1 1 shot lifeline scudo nemico in frantumi arriva l'imbruglione fuori 1 mi sparano e hanno una buona mira ho distrutto lo scudo a un nemico nessuno scugge alla morte ciao ragazzi ho già pasta con sugo ci mangiava pasta con sugo ma hai fa fatto te vorresti mettermi in sugo va 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 tutto bene vuoi vEND Title hu, vthinking, ha visto un po' il camera, nicole, schipò oddio la patente o l'esame a fine agosto? ma dico com'è che sono ancora vivo? perché sono scappato da tutti non ho fai dato nessuno ma c'è gente qua? ma perché tanto se li fai tu già lo sai come va a finire che faccio 140 bianco ragazze ha fatto un mostro che ci mangiamo oggi ragazze eh nokatuno krakata lifeline ragazze che l'ho fatto? g infatti fa ridare la prima volta dopo se continui che mi dico l'ha detto ribo quindi io glielo ho fatto che sfiga di merda dio caro ti pare odio boh? sfiga meglio io ho fatto io ho fatto io ho fatto mi fu sardo tu ne vuoi guardare mix mixtape lei si aperte nei miei occhi for real for real non li apro nemmeno giovani chi ti periferia ne fanno su io gordo è un altro team e tu ci rimetti certo e io no guarda guarda questa zoccola guarda la guarda ma do il cazzo non basta horizon c'hai 10.000 kill stagionali esci di casa ti prego vieni giù vieni giù vieni giù chi mi sa che non ti combina leggi cosa ha scritto tuo padre concordo io concordo è vero dico ma mi stai guardando potresti fai sapere quando guardi sto guardando vai fai vedere a tutti le tue doti il mio però non sto a vedere eh ma 10.000 stagionali non si lava le palle da un po' di tempo mannaggia ho un shot o g ho un bel panorama ma giù e che ti regga cosa ha detto tuo padre o l'hai letto? l'ho letto god ha detto di stare zitto brutto bambino coglione no ciao un ragazzo no io non me la rischierai g c'è altra gente qua oggi adesso ma che stazzo ma che stazzo sono morto no arriva un replicatore se ti fermerò tutti ti do 100 euro no no fai pochissimo vecchio vabbè se stai 6x70 vabbè se stai 6x70 che se no poi prendete la ciole piangi e dici eh volevo craftare vai a craftare io contro quelli la non voglio più coitare però ve li fate voi prima come mai? così perché non voglio perché c'era troppa puzza di palla incrustata panizzi ho fatto full team con quello horizon vicino non lo voglio più sentire in verità mi sa che è morta non lo so nooo ciao G ciao pandizzi su Zico puoi chiedere a G dove ho comprato il crono dai ma chiediglielo tu e G dove hai comprato il crono G se devi morire ha fatto no si va bene ma la ken giga è gente che non sta bene c'è 60.000 kill stagionali 60.000 kill stagionali 60.000 kill stagionali metti pure che per assurdo c'ha 10 kill di media partita che non ce le ha mai perché è impossibile che ha 10 kill per match 60.000 kill stagionali ma 10 kill per match non ce le ha ma pure metti che c'ha 10 kill exokais che c'ha 60.000 kill stagionali ah vabbè cioè metti pure che c'ha 10 kill per match che non ce l'ha mai nella vita ce ne avrà 5-6 di kill per match di media pure se ce ne ha 10 sono 6.000 partite cioè sono 6.000 partite in 80 giorni che ci sono stati per ora di stagione ma che bug mi spandis scusa no 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 sono 75 partite al giorno si fa lasciare ah si fa fidare vabbè uguale pure 20 kill di media partita sono comunque 3.000 partite nel senso che sono molte 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 sono tipo penso almeno 11-12 ore di media al giorno nico ma penso ne abbia di più di 3.000 partite nico decisamente non ci credo che c'ha 3.000 partite e 60.000 kill cioè non c'ha 20 kill di media partita è impossibile basta sti cazzi non esce di caso ci sta pure avesse 5-6.000 partite comunque vabbè vabbè ma è greve sono in ogni caso sono in ogni caso penso veramente 14-15 ore di media al giorno quali panini mi piacciono tra panini alla mozzatella o panini alla sottocotta ma ci responi ma donna ma ho capito riba è molto forte ma ti ho detto ce l'avrà 14-15 ore di media al giorno pure del più drondo tipo 16 ce l'avrà 8 ore di sonno 15 ore di apex beh sai che quasi quasi ma io adesso non posso beh nico se lo faccio io forse diventa più forte no? dovresti allora tocca provare e non è perché lo so cioè è così pure facendo eventi di media partita ma ci responi a parte dove vi respawno? sistema statico oppure eh non vi respawno giovane kid di cariferia oh respawno qua togli su quattro perga se spara con quattro perga a due perga o non mi fa battere però eh minchia tu ti stai sparando no eh ma vai con l'altra arma ok ho capito perché andavi con l'handlock vabbè grande se vuoi sparare a sinistra visuale su post poi vabbè da 1k 425 da eh critico e poi adesso da un livello da un livello 95 povera non lo so eh ma le smennano? si tanto ciiiina nico qual è il tuo salume preferito? il tuo salame scherzo scherzo ehm scherzo scherzo io non ho detto niente stavolta mi sento violato allora il mio salume preferito è ma per il salume intendi anche i prosciutti cioè intendi cioè non so eh ok no perché qualcuno no ehm fesa di tacchino o bresaula bresaula e fesa di tacchino non bresaula con i moni non so perché sono un po' di più magica no 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 a me la fesa di tacchino piace cioè mi piace proprio un po' se tu il grasso e il prosciutto lo mangi no no ma poi dipende c'è tipo a me il grasso a me fa schifo solo il grasso tipo quello del prosciutto tipo il grasso nel salame non mi fa schifo minchè il sushi ma non è uguale eh figa tolgo i buchetti cioè faccio tutti tutti eeeh tipo di affettato più grasso mi piace la mortadella la mortadella mi piace cianico scusa ma io non ho capito cianca 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 chi stavi parlando prima? quello con tanti prime kill tu un po' quello questo qui ne ha quasi diecimila eeeh proprio lui si si esatto le palle incrostate ma diecimila non sono poche per una season no non sono poche sembra ma che cazzo c'ha il tg5 come schermare integricamente no è casuale è casuale ah meno vale basta io faccio l'ultima e vado a cenare non stacco quando faccio le 100mila vaffanculo le faccio domani ma figa dovrei cioè dovrei fare fino alle 6 di mattina per davvero dai ne ho fatte grandi ciancai qua maratona 100mila kill e quel cam guarda c'è anche nel titolo maratona 100mila kill oh 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 è una bella giornata per eliminare degli sciocchi e tornare in tempo per cena stasera pizza marica se non ti smutti di col tuo segreto parlatemi allora marica vi saluta tutti no no adesso si smutti e saluta tutti bastarda no non lo dico marica però fottiti lo dico io? si dillo tu no ma tu non lo sa mi so restiamo uniti per si lo sa quindi tu ce la faccio a fare tipo 400kili in 8 giorni? no se tra gli ardi si perchè marica lo sa pure seba? ne so anche più di te pan lo sa pure seba marica? oh dimmi di si li prego almeno dopo ne parliamo in prima volta insieme no 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 non succederà si lo sei pure tu c'è di grande si ma non succederà no dopo facciamo tipo mi chiamola mi chiamola beh mi chiamola ma raga ma che cazzo siete maniaci? c'è boh quello là c'è la risata zica ah madonna pandiz ti deve esplodere zio cani la playstation nico mi stanno mettendo molta paura e luna di nozio cioè mi stanno facendo cagare addosso nico poi mi trovo tutto il monitor smerdato non ho mai ciao nico per sparare a tanno di tutto caraga ho fatto un full team l'ho preso uno eh nico eh lo so però ce ne sono tanti ho preso due nico bravo ma faccio un altro gli ho crackati tutti e due no no grazie nico grazie sebo mi curo no way grazie sebo 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 potrei essere stato il mio grazie sebo per segno che mi ha dato un cazzo a tutti zeba ma io ne ho ucciso uno solo in verità zeba Oh è fatti restare da lui Puttana troppo Ma state memando Vi devo fullare dio caro Figlio di puttana Ma mi si attacca Pallis Ma io ci stavo provando Pallis Mi pushano Eh si ma ci pushano altri Ma abbiamo gente qua davanti Ma ti svegli E quindi Se sono davanti quindi Ero coperta da mezz'ora Antioca non spero muori Mi sembro un po' esagerato Come te lo lascio di gioco ovviamente Ma che tanto ho fatto sir Ma è scemo Vabbè ma ci sono un po' di putti scarse Beh raga Ma stanno fermi Eh solo perché li ho filati io adesso Eh ma stanno fermi Su Luca Rosica Bimbo mardo Lillipad Questa è una ragazza Ti godo ancora di più Ehi bella pupa No Luke Fa schifo Ciao Nico Cos'è la GTA PSL Si va anche dietro Si va anche dietro E com'era Ho distrutto lo spunto Una normalità Non è di qua Sì Sì Waaah, Niko ha ucciso Jiggy Bang Bang! Hai appena scoperto la top 1 dei suoi teammates. Stiamo giocando in due d'up. Eh, lo so. Ah, che cazzo volete da me? Mi hai sporchi 365 donne. Molto utile, Pandits, in questa partita, posso dire? Anch'io, ragazzi, prego per ricarlo. Minchia, appena vieni noccato perché sei talmente scarso che tu usci una v4. Minchia. Che bellezza. Guarda, aspetta. Bellezza. Eeeh, grazie. Prego, tranquillo. Grazie, Niko, per avermi rissato. Cazzo. Prego, Giancarlo, per avermi rissato. Hai visto quanto sono forti con la carabina, G? Sì, Niko. Il 99 con Lolo... Con Lolo? Ma che caricatore ha lì? Lolo lacustre? Stacco. Eeeh, ce l'ho su. Ehi la, Brother Pandits! Per caso hai qualche energetica in più, caro? Servono munizioni energetiche. No, in più no, mi si fa. C'erano solo 300. Eeeh, va bene. Eh, ma nei pochi allora, utile pure. Ah, guarda, non trovate altre. No, no, ma ci sta, perché... Magari usandole tutte fai qualche danno. Mi sa che te ne servono molte. Non spreghi di essere rissato. Io e sei fa che fai diamo... Che fai diamo dieci persone e lui la... Ueh, buona go, ma state bevando. Ma state bevando? 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 Está bevando al keep� al top 11. Te, DIO mind' RADCOBOSSATEMI BABB BABB! Arrivano in Toscana i Ciro, se... Da me raga, porco rio... Ah, andiamo da Sebo, G. Ah, ci sta. Da me sono due team che fightano, quindi posso fare i third party da solo. Vabbè, ma... Due e due, io sto con Nico. Vieni, G, vieni, vieni, vieni. Ah, ria. Fightano molto, G. Ah, ria. No. No! Da me si ammellite. Vaglio, cap'olto! G, non ho lasciato i one shot due. Quanto sono forte, porco dio. Oh, la rifi... Nooo! Ma era mio, G, vaffanculo! Nooo! Sono sopra qui, sono sopra qui. Ci ho aggrappato uno. No. Gli altri da dove siamo arrivati noi probabilmente arriveranno. Ma cos'è che succede quando vado a terra? Non ho capito. Non è finita la partita, voi tranquillo. Minchia G, che triplo ho fatto. Manca un minuto. Che triplo ho cacciato Giancarlo. Non ho giro leggero, non posso sparare. Vieni qua, te le do io. Ma loro non ne hanno. Ehm... No, Nico, tranquillo, riprendile. Eh no, ormai no. Ok. Dai, G Shadow. Tieni. Eh che due coglioni. Ah, l'altra squadra, G quella dietro. Ah, l'L1, G. Quanti tutti? Qua, guarda qua, guarda qua. G, non aprire questa porta. Ti sentito qua, ti sentito qua. L'ho scopato, l'ho scopato, l'ho scopato. Non ho la ulti, non ho la ulti da mettere. C. Ehm... C'è gente. Io ti resterei. Vieni. Eh, sono qua, si va. No! Ho smirato tantissimo! No! La carabina. Uno di metà. Aaaaaaah! Madonna, quanto cotto! Eh, ma figa, che palle! Dio, cobro! 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 No! C'è un casino qua dentro! Ah, madonna, madonna, marica! Guarda! No, ero attaccato a me! Che sfiga! Ci avete provato! Eh! Decisamente, cazzo! Beh, l'S2 v4! Vesteggiamo! Che vuoi? Due e mezzo! Che tossico, madonna! Eh, due e mezzo, va bene! Ci sto! Facciamo tre! Ma raga, ma questi hanno zero kill, zero kill, zero kill! Due e tre e quattro! Ma hanno 58 danni, 200, 150! Tra l'altro è quello che ha ucciso me da dietro! Minchia! Che poi, tre team rimasti, eravamo a 24, potevamo finire con 36, tipo! Nico, qual è la tua top 3 rimasti? Eh... Papandiz, primo! Che carina! Mi ha mandato l'accetta! Anche a me l'ha mandata! Hai visto che bella scrittura che ha? Sì, è simile alla mia! Sì, G-Shadow! No, no, no! Giuro, giuro! È simile! Ma manco sa scrivere in San Patalo minusco! Cazzo, è vero! Bravo, Edo! Sono un pro player! Quindi, G-Shadow voto scrittura di Miwa? Eh... Nove e mezzo! Anche la dieci! Ma mi vuoi mandarlo sul gruppo, no? Siamo curiosi tutti! Ma quanto sei, Nico, di kill totale? Eeeh... Ma abbastanza! Eh, ma quanto mancano le 100? Eh, me ne mancano 104! Sì! Perfetto! Per forza! È che sto veramente morendo di fame! Ah, il titolo darà 104 kg di 100... Nico! Perché quando ti ho mandato una foto del mare mi hai mandato uno sticker che fa uno strano gesto con le mani? Che strano gesto? Tipo di... Vieni qui! Ma dove? Vieni qui! Sì! Hai dei schi bambini? Nico, cosa ci devi dire? No, aspetta! Dove è G-Shadow? In che punto della nostra chat? Ehm... Penultimo messaggio! Ora ti puoi eliminare! Che clown hai cambiato titolo! Ah! Vabbè, no! Vabbè, ok! No, Nico, basta! Sono affeso! Cioè... Vabbè, non è lo sticker solito che mi hanno sempre! Mi manda le lingue quelle che fa... Eh! Lui mi ha mandato una foto che era al mare e io gli ho mandato lo sticker e fa... Vabbè, vabbè! Cioè... Voi avrò visto qualche vecchio con lo slip! È possibile! È possibile! Ma devi staccare! Sì, vado a cenare! Vole staccare! Vole staccare! Vole staccare! No, ma ce la farei a fare le ultime 104 giocando altre 4 ore, però... 4 ore per 104 kill sono un too much! Ma le facciamo domani! Dai! Che soldi! Domani pomeriggio? Ho un po' trollato, però vabbè, mi son divertito molto! Nico, ti posso dire una cosa? Sì! Certo, ma... Martedì... Martedì... Martedì prossimo sul compleanno di mia zia! Ancora? No, stai trollando! Non ci credo! No, 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 giuro! Stai trollando? Ma quanti cazzo di zia hai? Eh, nel dico! Quanti fratelli ha tuo papà, scusa? Ma basta! Due, però uno viva Riccione! Quindi... Doari?! Ok! Riccione! Emilia Romagna! Ehm... Tua mamma? Ma basta, smettiti di sottare le mamme! Viva in casa con me! Quante sorelle ha, fratelli? Viva in casa con te! Tre! No, perché sto dicendo che avevi un sacco di zii, però ci sta, perché se... Se tuo papà ha due fratelli, tua mamma ha tre fratelli... Ha tre fratelli, tutti e tre felicemente sposati! Eh, quindi hai doppi zii, ognuno, capito? Tra cui uno pelato! Eh, io sono abituato che mio papà ha un fratello! Si chiama Franco! Mia mamma ha una sorella, e quindi ho due zii e due zii, non sono abituato ad avere tipo... Boh, io ne ho tipo quattordici! Eh, non sono abituato ad avere così tanti zii, mi fa strano, perché io ho due coppie di zii, praticamente... Io invece sono alfano e lo zero! Io... Ma... Ehm... Ma questa è una cosa strana, perché... Normalmente uno ha più di due coppie di zii, perché effettivamente ci sta che ci siamo più fratelli... Però per me è proprio strano, perché io sono sempre stato abituato che ho gli zii da parte di mamma e gli zii da parte di papà, che però sono... Eh, anch'io! Due e due? Eh, ma sono due e due da me, non sono così tanti! Eh, da me sono quattro e quattordicimila! Eh, però così è peggio, perché tipo io ho un rapporto più profondo con gli zii! Ma che peggio che mi danno un fanfuttio di regali, mi danno peggio! Eh, vabbè! Che scemo! Peggio! Sì! 10 da parte di papà! Boia! Si sono divertiti i genitori di tuo papà, Marika! Cioè... Eh... Sono neri, ci sa che le donne vadano da loro! Cavolo! 10! Cioè, 11 con tuo papà! Eh, boia! Tipica famiglia nera! Ma hai fatto i pranzi di famiglia con tutte e 11 le famiglie? No! Finchia, mi immagino a Natale! Marika, ma uno dei familiari ha mai detto BOMBO CLUT! Eh, vabbè! Mmm... Nico, ma non dovevi andare a mangiare? Sì, infatti, ciao ragazzi! Ora io... Cosa mangi? Vi saluto, vado a mangiare e domani finiamo le 100k! Cosa mangi? Ne mancano 104! Cosa mangi? Eh... Non lo so, ma... Non mancherò di fartelo sapere! Ti cucini? Non lo so, ma non mancherò di fartelo sapere! Ti cucini? Sì, si mette lui sulla piastra! Con chi mangi? Ti cucino! Ti cucini? Cosa mangi? Con chi mangi? Lo scoprirete! Dove vai? Non lo so, giuro! Forse mi faccio una pasta col tonno! Nico, cosa mangi? Questo gruppo vorrei vedere quella più bella da vedere! Pesto e tonno... Eh, non ho pesto, mi sa! Anche io, purtroppo! Nico, io ti mangio una foto... Anche a me e Marika stanno sul cazzo! Nico, ti mando una foto con pasta, gamberoni lunghi 4 metri e mezzo e... Spinach! E... Spinach! Va bene! Poi tuo papà viene di là e fa... Spam! Oh! Fa... Spam! Come che fa? Fa... Spam! Ha letto! Dici? Beh... Io sento solo una cosa! Oh! Stasera... Leggende su Brustars! Stasera... Eh? Stasera... Con chi? Ti giuro... Io oggi mi sono proprio pentito e ho detto... Quando ero a 35 punti dalle leggende chi cazzo me l'ha fatto fare di fare una partita con Edo? Porco dia se lo continua a cuori random! Effettivamente! Notta a tutti! Però Nico aspetta! Ah! Paffaculo!